Ehi, state per vedere la puntata numero 8 del Breaking Italy Podcast, che sarà un po' diversa dal solito. Non tanto per la struttura del podcast o il ritmo, quelli sono sempre gli stessi, quindi mettetevi comodi e preparatevi a una lunga ed interessantissima chiacchierata, ve lo prometto, quanto sul tema che sarà il centro di questo episodio. Parliamo di Ikiko Mori. A spiegarvelo sarà tra qualche minuto Marco Crepaldi, il fondatore di un'associazione che si occupa di questo fenomeno sull'intero territorio nazionale. Ikiko Mori Italia, ma in breve quello dei giovani reclusi che non studiano, non lavorano, non escono nemmeno di casa e rifiutano di inserirsi nel tessuto sociale usando solo internet come mezzo di comunicazione con l'esterno della loro stanza, Ikiko Mori appunto, è un fenomeno silenzioso ma in grande crescita che si stima a riguardi per adesso almeno 100.000 ragazzi, quindi la popolazione di un centro di medie dimensioni. Più ovviamente le famiglie, perché parliamo di un evento devastante non solo per chi ne ha affetto, ma anche per chi si trovi a dover affrontare la tragedia di un figlio, di una figlia, di un fratello, di una sorella che volontariamente decidono di non fare più niente con un ovvio peggioramento dello stato psicologico di un po' tutti. Ho scelto di affrontare questo argomento con Marco per varie ragioni, anche se è un argomento di nicchia rispetto ai soliti. Un po' per trasmettere il messaggio che sia importante parlare anche di problematiche di persone invisibili perché il loro disagio non è inferiore ad altri tipi di disagio più palesi dei quali spesso ci troviamo a parlare qui a questo tavolo ma un po' anche perché quest'argomento io mi ci rivedo. È quella tendenza all'isolamento, al rifiuto delle cose, all'arrivere alla conclusione che in questo mondo per me non ci fosse speranza che io conosco perché ci sono passato e non è un periodo che rimpiango particolarmente. Ma è passato, perché può passare, ma non voglio anticiparvi troppo e dopo avervi detto dello sponsor di questa puntata vi lascio la chiacchierata con Marco. A sponsorizzare questo episodio è Gimme5, un'app della quale abbiamo già parlato su Breaking Italy e che mi sembra sia incredibile sia arrivata solo di recente. perché il fatto che sia un'app sul telefono e non un ufficio aiuta ad approcciarsi a realtà che possono sembrare un po' spaventose per chi non le conosca come le società di gestione del risparmio che però offrono per chi voglia pensare al proprio futuro un servizio fondamentale, cioè il risparmio gestito. Abbiamo già parlato in passato dell'importanza di mettere da parte dei soldi possibilmente ogni mese o ogni volta che sia possibile farlo, soprattutto per pensare al futuro perché, ve lo dico, mi sembra incredibile che una generazione come la nostra che vive con la convinzione che non vedrà mai una pensione come quella dei nostri genitori non cerchi di muoversi per tempo per mitigare il problema. Gimme5 serve anche a questo, che è poi in realtà il famoso gruppo A come A che per qualche ragione ha un logo che riesce ad essere peggiore di quello di Breaking Italy e io l'avevo fatto in dieci minuti tipo dieci anni fa. Non pensavo sarebbe durato tanto. L'app è molto semplice, la scarichi e decidi cosa metterci dentro. Vuoi partire anche da cifre irrisorie come 5 euro per iniziare ad abituarti all'idea del risparmio poi decidi se farlo ogni mese automaticamente, tu quando vuoi, a fine mese, come volete e decidi dove soprattutto. Ci sono panieri più sicuri che rendono meno, ci sono panieri più aggressivi che rendono di più ma soffrono le fluttuazioni del mercato. Tutto ovviamente controllato, garantito, certificato, non è una roba tipo investi nei Bitcoin a caso e poi chissà. Negli anni quegli investimenti crescono per l'effetto moltiplicatore dell'interesse composito che sono gli interessi che si sommano agli altri interessi e dopo molti anni ci si ritrova cifre sensibilmente più grandi di quelle che si è deciso di risparmiare. Anche se nel caso aveste bisogno di denaro immediatamente potete disinvestire quando vi pare. È ovvio. Sinceramente l'io di ieri, Rave Party e Mojito, sarebbe un po' stupito immaginandosi in futuro sull'internet a invitare le persone ad essere responsabili, previdenti e risparmiare. Ma cosa vi devo dire? È andata così. E comunque è importante, quindi dateci un occhio. Se usate il codice ITALI10 o schiacciate sul link in descrizione ottenete persino 10 euro di bonus di benvenuto. Così potete dare un'occhiata gratuitamente e decidere se poi iniziare a costruire i vostri risparmi. Bene, era tutto. Vi lascio la mia chiacchierata con Marco Crepaldi di Kikomori Italia. Prendetevi qualcosa da bere, mettetevi comodi. Sarà interessante. Marco, grazie per essere qui. Grazie a te. Come ti dicevo ti farò un po' di domande banali all'inizio perché sono sicuro che molti non sappiano cosa sia un Kikomori, non conoscono nulla di questo fenomeno. Quindi alcune cose le so perché io faccio i compiti, quindi mi sono guardato, ti ho dato non le tue interviste, le tue interventi. Anche le tue interviste perché tu intervisti degli Kikomori sul tuo canale. Sì, sì, ho raccolto un po' di storie di ragazzi che hanno deciso di raccontare la loro esperienza. Sì, una decina. Super interessante. Ok, quindi partirei mentre ti verso il mirto. Vai, sono pronto. Rispettiamo le tradizioni. Ti chiederei di spiegare che cosa è un Kikomori. L'avrei fatto mille volte, quindi farlo per la mille e uno. Allora, in realtà ci sono mille definizioni. Partiamo da quella scolastica. Il Kikomori è una parola giapponese che in italiano si traduce con stare in disparte e viene usata per identificare chi si ritira in casa. Cioè quelle persone che tagliano i punti con la società e stanno nella propria abitazione. Poi da questa definizione si apre un mondo perché bisogna capire perché uno si isola. Quanti si stanno isolando? Che cosa fanno in casa? Insomma, il Kikomori è un tema che secondo me è trasversale. Tocca tutti i temi principali di questo tempo. La scuola, la famiglia, la società in generale, i social. Però fondamentalmente il Kikomori è una persona che si isola in casa. In Giappone ci sono più di un milione di casi accertati. È nato lì intorno agli anni 60 il fenomeno. È una parola che veniva utilizzata in gergo, non è un termine medico. È una parola che proprio è stata cognata, come spesso fanno i giapponesi, con le loro varie etichette, otaku, eccetera, per identificare quelle persone che abbandonavano la scuola, vero e similmente, oppure anche dopo il periodo scolastico, e sparivano. Sparivano dal nulla e quindi si utilizzava l'espressione Ikikomori. Esattamente, quindi con l'accento sulla I per definire queste persone che si isolavano per mesi e anni. Quindi una cosa che voglio precisare, subito in apertura, è che non si tratta di un isolamento, come potremmo definire, fisiologico, no? Che una persona per un periodo della sua vita, perché ha avuto dei problemi o vuole stare da sola, si isola. Qua parliamo di un isolamento prolungato. Addirittura il governo giapponese ha stabilito che, per parlare di Ikikomori in Giappone, si debba essere isolati senza lavoro, senza studi, e senza contatti amicali, per almeno sei mesi. Ok, quindi anche se è una parola non riconosciuta dalla comunità scientifica? C'è, ma è considerata una sindrome culturale, nel DSM, nel manuale diagnostico, è considerata una sindrome specificatamente giapponese, anche se ci sono diversi studi scientifici che utilizzano questa parola nei paper, che testimoniano, come ormai sia chiaro, che queste dinamiche di isolamento che inizialmente si erano viste in Giappone, e poi magari parleremo del perché è iniziato in Giappone, sono diffuse in tutto il mondo. Quindi ormai il fenomeno riconosciuto non è utilizzato il termine Ikikomori nel DSM come sindrome mondiale, ma appunto è una sindrome culturale. Però si usa quel termine comunque? Si usa negli articoli scientifici questo termine, assolutamente, sì. Ok, quindi anche se è riconosciuta come sindrome culturale, c'è una sorta di diagnosi? Perché questa qui che tu mi hai fatto è una sorta di diagnosi? Cioè l'ha deciso il governo, in realtà non l'ha deciso... Non è una diagnosi perché non è ancora chiaro se possa essere considerata una patologia o meno. Poi ti dirò anche la mia. Però non è proprio una diagnosi. Il governo cosa doveva fare? Doveva mappare i casi. Cioè doveva dire quanti sono questi isolati sociali nel mio paese e allora ha dovuto darsi dei criteri oggettivi. Cioè dire come faccio a decidere se uno è Ikikomori o non Ikikomori? E allora si è dato dei criteri. Il primo è quello dei sei mesi, l'altro è quello che la persona non deve avere lavoro o studio in corso, l'altro ancora è che non deve avere contatti amicali, sono consentiti solo i contatti con la famiglia, anche se a volte non ci sono neanche quelli e non devono esserci... Consentiti nel senso che non vengono calcolati. Esatto, consentiti nel senso che uno è Ikikomori per i giapponesi anche se ha contatti con i genitori. Certo. E l'altro criterio è che non devono esserci diagnosi di psicopatologie concomitanti. Quindi se tu per esempio hai una diagnosi di ovviamente non so schizofrenia o depressione maggiore, in quel sondaggio non venivi calcolato. Perché eri considerato Ikikomori solo se rispettavi questi criteri che sono molto stringenti, per cui il milione passa di casi che sono stati identificati con questi criteri molto probabilmente è riduttivo. Perché tante persone che magari sono isolate da meno di sei mesi, ma comunque tanto, oppure che hanno una diagnosi che quindi le ha portate ad essere escluse, potrebbero rientrare in questi numeri. Ok. Tu hai fatto... Qual è il tuo percorso di studi? Scusa se te lo chiedo. No, no, fai bene. Fai bene. Io ho studiato psicologia. Psicologia sociale alla Bicocca di Milano. Ho fatto i cinque anni, la magistrale. E proprio in quegli anni io ho conosciuto per caso il fenomeno guardando un cartone animato che si chiama Welcome to the NHK, se qualcuno lo vuole vedere. Un anime giapponese, per la precisione. Sì, mi è stato anche consigliato qui in studio per capire questa cosa, ma io non ho fatto in tempo a guardarlo, devo dire la verità. C'è su YouTube. È veramente bello. È un anime che in realtà viene da un romanzo, quindi è un po' più maturo rispetto magari gli anime che, non so, vengono dai manga. Però è un anime veramente che consiglio. C'è su YouTube, sabato in italiano. Anzi, anche in italiano, se qualcuno non ha problemi. Questo anime me l'ha fatto conoscere questo termine nel 2012. Io rimasi colpito a tal punto da questo fenomeno che decisi di scrivere la mia tesi di laurea. Dopo aver scritto la tesi di laurea, era ancora la triennale tra l'altro, dissi, ma cavoli, ma questo fenomeno è super interessante, non ne parla nessuno, in italiano non ci sono fonti, perché a parte Wikipedia allora c'era praticamente nulla, ho aperto un blog. Ok? www.ikikomoritalia.it, un blog ancora oggi veramente brutto, sembra degli anni 80. Ok. Però questo blog è diventato il centro di una community, di tante persone che si sono interessate per vari motivi a questo problema e da lì poi è nato tutto il resto, è nata un'associazione nazionale, è nato un interesse molto alto su questo tema. Ecco, ti facevo questa domanda perché vorrei capire, prima di approfondire, perché io proprio voglio farti delle domande specifiche per capire come individuare un ikikomori, ma prima ancora, tu quindi ti interfacci in un certo modo con dei tuoi colleghi in Giappone ad esempio? Sì. Ok. Il fatto di usare il termine ikikomori è molto utile per la ricerca cross-culturale, nel senso che io sono stato contattato non solo da giapponesi, ma anche da altre nazioni europee, da persone che iniziano a utilizzare questo termine per cercare di allinearsi, sul fatto che è un fenomeno mondiale legato, poi appunto lo vedremo, a delle dinamiche della società moderna e quindi questa cosa mi permette di rapportarmi con diversi studiosi che stanno facendo anche dei progetti dedicati all'ikikomori per esempio in Giappone, ho conosciuto una ricercatrice giapponese che è venuta a Milano, che era in tour in Europa, è venuta in Milano per conoscermi, mi scrivono diversi ikikomori giapponesi anche e poi soprattutto ovviamente i ikikomori italiani io parlo il kikomori Italia, parlo in italiano, quindi il mio progetto è sull'Italia, però è talmente un tema interessante che poi mi contattano davvero da tutta Europa, anche dal Brasile a volte mi scrivono. Ok, perché anche altri paesi hanno la problematica del fatto che non se ne parli abbastanza. No, no, è molto diffuso, questo problema è molto poco riconosciuto. Ok, quindi prima di farti la prossima domanda ti invito a assaggiare. È la prima volta che bevi il mirto? Sì, ma come detto io farò un po'... No, non è la prima volta, ma farò un po' finto perché bevo poco e quindi se bevo adesso alle 10 di mattina poi non sono più in grado di rispondere alle tue domande, sicuro. Però buono. Ok, vabbè, è buono davvero? Buono, giuro, l'ho bevuto, giuro, un pochettino, puoi calcolare. Dopo faremo uno zoom per controllare se effettivamente l'hai bevuto. Ok, quindi l'Ikikomori, hai detto, è qualcuno che si isola, fondamentalmente il discorso è quello. Se ci fosse in questo momento una famiglia, un genitore, come farebbe a identificare lo status tra virgolette di Ikikomori del figlio? Cioè potrebbe vedere il figlio che magari ha lasciato la scuola o magari va a scuola però poi non vuole uscire dalla sua stanza o gli sembra depresso, triste. Come capisco se mio figlio è un Ikikomori? Allora, questa è una domanda molto importante. Allora, parto col dire che io ricevo soprattutto contatti dai genitori, che sono quelli che portano il problema. Lo portano molto meno le persone isolate, molto di più i loro genitori. Spesso un Ikikomori non riconosce di avere un problema o comunque pensa che non ci sia soluzione. Però è una cosa importante da dire che per me l'Ikikomori non debba diventare una diagnosi. Quindi io non utilizzo la parola Ikikomori come etichetta. Per me l'Ikikomori è un fenomeno sociale che potremmo definire un disagio adattivo di tipo sociale. Cioè una difficoltà della persona per caratteristiche sue temperamentali di adattarsi a questo contesto sociale, quello moderno. La prima manifestazione, diciamo quella più palese di difficoltà adattiva è l'isolamento. Però in realtà ci sono tutta una serie di segnali che un ragazzo può dare anche prima di questa repentina fuga dalla società come potremmo chiamarla. Un genitore di solito riconosce questi sintomi di Ikikomori quando il figlio incomincia a saltare giorni di scuola. Il figlio incomincia a dire io non voglio andare a scuola, non ce la faccio andare a scuola, magari si inventa delle scuse dicendo sto male. E quella repulsione che lui sviluppa nei confronti della scuola è qualcosa legata non allo studio ma è legata al contesto sociale, cioè la difficoltà di integarsi, di avere relazioni con i compagni, magari subiscono bullismo. Insomma, la scuola diventa un ambiente sociale respingente per cui questi ragazzi a parte che somatizzano molto spesso l'ansia di dover andare a scuola ma poi non trovano più nessun tipo di piacere nemmeno appunto nell'atto di andare a scuola al di là poi dello studio. Sono ragazzi spesso anche molto intelligenti quindi non hanno di solito problemi di voti nel momento in cui abbandonano la scuola lo fanno per una difficoltà sociale una difficoltà legata alle relazioni quindi diciamo per rispondere alla tua domanda so che il tuo dubbio principale è ma cosa distingue l'ikikomori da qualcos'altro? L'ikikomori perché secondo me non c'è ancora una definizione chiara ti dico la mia è distinguibile dalle altre forme per due fattori gli unici due fattori che secondo me sono trasversali a tutti i casi di l'ikikomori poi sono molto eterogeni il primo è che c'è una forte ansia del giudizio sociale cioè queste persone si isolano soprattutto per sfuggire al giudizio sociale al fatto di essere dei compagni dei compagni in particolare però può darsi che uno diventi kikikomori si isoli anche successivamente alle scuole per esempio in Giappone l'età più critica è quella post diploma quella legata all'ingresso del mondo universitario ah quindi tipo 18 anni sì molti kikomori in Giappone diventano tali quando falliscono il test di ammissione all'università questo senso di fallimento perché non sono riusciti a entrare nell'università dei loro sogni poi in Giappone c'è un sistema di università molto gerarchico per cui se tu non entri nell'università di Tokyo per dire già per molti è una sconfitta molti falliscono il test stanno un anno da soli a ristudiare per dare il test l'anno successivo e in questo periodo diventano i kikomori quindi non è solo una qualcosa legato alle scuole superiori anche se in Italia molti si isolano durante i 15 anni questa è l'età media che ho individuato all'interno dell'associazione quindi durante il liceo diciamo durante le scuole sembra che il passaggio critico sia quello tra le medie e le superiori in particolare questo salto è molto problematico e tantissimi si isolano nei primi due anni delle scuole superiori quindi sicuramente per un ragazzo un po' più fragile un po' più in difficoltà nel relazionarsi questo salto a volte può essere anche problematico perché cambia ambiente in modo repentino vai in un ambiente molto più adulto dove ci sono delle pressioni anche diverse però tornando appunto senza divagare troppo l'ansia del giudizio sociale il fatto di essere giudicati come più brutti meno simpatici meno interessanti meno bravi in generale un po' la competizione sociale prende un po' tutte le variabili ma non è la realtà di tutti quella perché io sto pensando ovviamente a quella che è la storia di un po' tutti quanti quando fanno le medie e le superiori le medie soprattutto sono un momento molto difficile secondo me ma a prescindere l'ansia del giudizio il voler essere parte del gruppo il sentirsi un po' brutto un po' troppo poco atletico un po' troppo basso non è parte della vita di tutti a scuola cioè chi è che va a scuola ed è contento di andare a scuola alla fine sì è vero questa è un'obiezione giusta ma ci sono delle dinamiche che stanno andando in peggioramento a livello di pressioni nella società moderna soprattutto con i social questo è un aspetto che va trattato il confronto sociale nell'era dei social network è esasperato quindi il fatto che io prima non so in passato fossi sfigato rimaneva un po' nel mio ambito sociale adesso il confronto anche con gli altri è incredibilmente facilitato dai social quindi oggi sentirsi dei falliti nella società di oggi è molto più facile le persone oggi o hanno successo o sono dei falliti non c'è quasi più una normalità che potremmo definire un presuccesso ok questo fa sì che le dinamiche di pressione sociale legate al senso di fallimento siano in aumento e poi l'altro discorso è certo non tutti diventano i chikomori non tutti hanno questa sorta di repulsione nei confronti della società questo ripudio della società solo i più fragili solo chi ha meno strumenti per poter reggere questa pressione purtroppo i numeri sono in aumento e io temo aumenteranno nei prossimi anni proprio perché queste dinamiche sociali non sono in fase di come dire regressione ma sono comunque in crescita in espansione ok però certo ci sono persone che per carattere per forza riescono a superare questo periodo molto pressante della vita ci sono persone che invece a un certo punto si rompono e dicono io basta a scuola non riesco più a andare non so cosa fare loro stessi soffrono ovviamente per questa scelta il genitore non sa cosa fare spesso gli pressa andare a scuola causando un'ulteriore rottura del rapporto genitore figlio per cui il figlio poi non vuole più parlare neanche con i genitori perché dice ah ma tu genitori ti interessa solo il fatto che io vada a scuola non ti interessa che io stia bene quindi c'è anche una sorta di rottura genitore figlio che distrugge completamente la famiglia il figlio si isola spesso all'interno della camera non riesci più a intercettarlo magari non scende neanche più a cena i genitori non sanno più cosa fare non sanno se il figlio è malato cosa abbia cosa non abbia chiedono aiuto in giro e molte persone non conoscono questo problema quindi magari cadono anche in errore ed è una situazione che provoca tantissimo dolore sia lato ragazzi sia lato genitori quindi è molto molto complessa anche da affrontare quanto dura in genere il processo di di chikomorizzazione allora non c'è una durata media in Italia dai miei dati che ho raccolto internamente all'associazione la durata media è intorno ai tre anni molto alta ma pensa che in Giappone sono più over 40 di under 40 perché tante persone sono rimaste in isolamento per 20 30 anni e oggi magari hanno più di 40 anni tanto che lì si sta incominciando a interrogarsi su come le manteniamo tutte queste persone inattive che non sono in grado di badare nemmeno a se stesse una volta che muoiono i loro genitori perché finché tu sei adolescente o un giovane adulto ci sono i tuoi genitori che si prendono cura di te sia dal punto di vista economico che dal punto di vista pratico e questi ragazzi diventano adulti ma rimangono degli eterni adolescenti perché l'ichikomori di fatto potrebbe essere considerato come un fallimento della fase di transizione dall'età infantile all'età adulta cioè dall'età in cui tu sei dipendente dai tuoi genitori sei un bambino quindi hai bisogno dei tuoi genitori alla fase adulta che non è la fase dove io mi compro la macchina o dove mi faccio la ragazza è la fase in cui a livello psicologico io sono indipendente dalla mia famiglia sono in grado di stare in piedi con le mie gambe per dirla in modo un po' a terra a terra questa fase di transizione è l'adolescenza ma è una fase psicologica non è una fase anagrafica per cui molti pensano che all'ora X all'età X tu passi dall'idea di essere infante adolescente e questo è un po' più immediato ma il passaggio da adolescente adulto non avviene per tutti ci sono persone che non riescono a fare questo salto psicologico e rimangono di fatto degli eterni adolescenti nei comportamenti nei ragionamenti soprattutto nei comportamenti e nella dipendenza dalla famiglia questa dipendenza si potrà e se tu non intervieni l'ikikomori non è una fase della vita spesso anzi tende a cronicizzarsi quindi se tu non intervieni rischi di rimanere in questo stato per 20, 30, 40 anni e andare in un costante peggioramento per cui in Giappone si trovano con questo enorme numero di over 40 isolati non in grado di badare loro stessi con i genitori che ormai o sono anziani o stanno appunto per morire che non sanno come mantenerli e quindi gli stanno dando per esempio una pensione di invalidità relativa ah ok si relativa sono stati integrati nella categoria dei nuovi poveri che però non basta perché sono persone molto spesso anche a livello pratico non in grado di badare a loro perché non l'hanno mai fatto ma quindi scusa se ti interrompo questa questa non indipendenza tu dici che è solo materiale o è anche anche degli aspetti diciamo patologici allora diciamo che inizialmente di chi comori è un disagio sociale quindi un disagio adattivo sono ragazzi che non riescono ad adattarsi e quindi si chiudono in camera non vado da nessuna parte immagina tu ogni volta che vai a scuola stai male oppure ogni volta che esci con gli amici dici ma che cavolo ci sto a fare con queste persone con cui non ho niente da condividere tendenzialmente cosa farai? starai sempre più solo il problema è che questa condizione rischia di cronicizzarsi per cui tu starai sempre più solo sempre più solo e a un certo punto non riuscirai più a tornare indietro perché poi c'è tutto il tema della paura del tempo perso che magari dopo affrontiamo qual è il problema? che poi questa che inizia come una diciamo una preferenza potremmo definirla così espone a patologie espone a tante patologie quindi diciamo si può psicopatologizzare in particolare la depressione è una delle patologie che più si innesca nell'ikikomori soprattutto cronico la fobia sociale la difficoltà poi dopo tanto tempo che non esci di casa a riuscire di casa a avere contatti con le persone e molto spesso altre patologie come disturbi paranoidi se poi vai avanti ancora di più nel tempo la derealizzazione la perdita di contatto con la realtà che porta a uno stato di isolamento così prolungato la dipendenza da internet e tutto ciò che ne consegue quindi sono persone che arrivano a quella condizione particolarmente debilitate e particolarmente non in grado di essere autosufficienti quindi c'è sia una parte diciamo più fisica materiale non hanno soldi non lavorano non sanno come mettersi nel mondo del lavoro sia una parte più psicologica sono persone che non sono riuscite appunto a diventare in qualche modo indipendenti anche dal punto di vista psicologico ok quindi fondamentalmente questi sono gli step che uno percorre nell'accorgersi che il figlio ha un qualche tipo di problema cioè il problema si capisce immediatamente che c'è un problema si capisce immediatamente magari non si capisce cosa sta succedendo tu hai detto ci contattano mi contattano non so se lo gestisci da solo come d'Italia no adesso se vuoi ti spiego come funziona l'associazione sì vorrei anche capire mentre me lo spieghi cosa cosa ti dicono i genitori esattamente ti chiedono aiuto allora diciamo che quello che non mi aspettavo io da Ikiko Moritalia era questo incredibile afflusso di genitori hanno incominciato nel tempo dal 2013 quando apri il blog a contattami tantissimi genitori nell'ordine di migliaia migliaia abbiamo un gruppo facebook dove ho fatto confluire questi genitori dove ci sono quasi 2500 genitori da tutta Italia che hanno tutti questo problema con un figlio in isolamento sociale la nostra stima è che già in Italia ci siano nell'ordine dei 100.000 casi quindi molti meno di quelli giapponesi molti meno di quelli giapponesi perché la pressione sociale in Italia è più bassa anche a livello culturale rispetto a quella del Giappone il Giappone è una società iper competitiva iper anche gerarchizzata dal punto di vista delle competenze per cui se tu sei bravo vai sicuramente in una grande università poi vai in una grande azienda l'Italia è ancora più come dire legata a diverse competizioni più sul corpo sul legame con i compagni ma ho notato anche che per esempio al nord dove questa competizione a livello di sviluppo economico è più alta ci sono anche più casi da quello che ho potuto vedere non so se è una difficoltà di far emergere i casi del sud ma mi sembra che la distribuzione in Italia non sia completamente omogena mi sembra che nelle regioni del nord ci siano molti più casi quindi probabilmente legato anche questa maggiore competizione che c'è dal punto di vista lavorativo scolastico il fatto che sia una società più veloce più performante più richiedente e poi il fatto che magari nel sud ci siano ancora più dei legami a volte di quartiere non so ci sono anche delle differenze probabilmente a livello di vissuto della socialità ipotizzo poi non è una conclusione sicura però tornando ai genitori mi chiedono aiuto non sanno cosa fare mi chiedono cosa cosa devono fare io cosa ho fatto nel tempo io ho radunati in un gruppo facebook dove possono incominciare a fare mutuo aiuto quindi incominciare a raccontarsi incominciare a capire di non essere soli poi col tempo è nata la necessità di costituire un'associazione perché anche per porre questo problema davanti alle istituzioni bisognava costituirsi associazione quindi ho trovato dei genitori che mi hanno aiutato in particolare Elena Carolei che è stata una mamma che mi ha dato una mano a costituire tutto lo scheletro dell'associazione le parti amministrative ma non solo e abbiamo creato proprio un'associazione nazionale che oggi cosa fa a gruppi di mutuo aiuto per i genitori in tutta Italia più di 50 di gruppi di mutuo aiuto e supporto psicologico slash in tutta Italia anche qua in Sardegna ne abbiamo in particolare in alcune regioni ovviamente Lazio Lombardia Piemonte Veneto ma davvero siamo ovunque quindi da ovunque un genitore ci contatti noi abbiamo un gruppo di riferimento dove puoi incominciare ad andare a incontrarsi con altri genitori e uno psicologo volontario ci sono più di 50 psicologi volontari che prestano il loro tempo gratuitamente proprio perché non abbiamo fondi come associazione siamo neonata l'associazione fai conto che è nata nel 2017 quindi da pochissimo e ci autofinanziamo con le quote associative quindi ci sono delle quote associative delle famiglie delle famiglie sono i genitori stessi che mettono una quota per cercare di finanziare le attività dell'associazione però poi non abbiamo ancora abbastanza soldi per pagare gli psicologi quindi in questo momento ogni gruppo fa un gruppo al mese almeno un gruppo al mese con uno psicologo volontario che segue questi genitori è molto interessante segue i genitori lo psicologo sì questa è una cosa molto importante il problema non è solo della persona che si isola è un problema sistemico in particolare del sistema società ma siccome io ho bisogno di avere un impatto più diretto parto dal microsistema famiglia sul quale puoi avere un impatto mentre sulla società ovviamente lo faccio l'impatto sulla società sto provando anche essere qua per me è provare a avere un impatto sulla società nel senso che lo provo a fare con la sensibilizzazione parlando del problema però è più lento il cambiamento sociale abbiamo bisogno di agire sulle famiglie per risolvere i problemi singoli però abbiamo visto che quando tu agisci sul ragazzo senza coinvolgere la famiglia cioè il ragazzo magari accetta di fare una psicoterapia singola molto spesso l'esito è scarso perché poi il ragazzo torna sempre in un ambiente che ha delle dinamiche certo che non favoriscono la sua uscita e quindi noi lavoriamo tantissimo sui genitori e indirettamente il lavoro fatto sui genitori aiuta tantissimo anche i ragazzi perfetto c'è una domanda di un utente che ti direi fuori adesso si chiama Antonello Dimola o Dimola sai che ho un problema enorme con gli accenti le pronunce qualsiasi cosa che chiede però che dinamica si instaura nelle famiglie dove c'è un Ikiko Mori anche io sono molto curioso di capirlo cioè qualcuno tu gli dici non solo gli dici vostro figlio è un Ikiko Mori però semplifichiamo il vostro figlio ha questo tipo di problematica che dinamica ti raccontano normalmente le famiglie c'è qualche punto in comune tra tutte le famiglie o sono così diverse che non allora intanto preciso una cosa sulla mia figura io non sono un clinico ho studiato psicologia ma psicologia sociale che è una forma di psicologia per semplificare più simile alla sociologia quindi non vedo i ragazzi i genitori come terapeuta io mi occupo soprattutto di ricerca e divulgazione in questo momento per l'associazione questo lo fanno gli psicologi che lavorano nell'associazione esatto i clinici che seguono i gruppi poi seguono eventualmente anche i genitori o i ragazzi qualora ce ne fosse appunto la necessità e la propensione da parte dei ragazzi soprattutto di essere aiutati quindi cosa succede che di solito il genitore arriva a me tramite il blog perché fa le sue ricerche quando tu non riesci a risolvere un problema cosa fai? cerchi su Google quindi si fanno l'autodiagnosi cosa che secondo me ripeto di Kikomori non è una diagnosi però è una parola utile per parlarne per riuscire a dare un po' un nome un connotato a questo problema e mi scrive e mi dicono mio figlio Nikikomori cosa posso fare? e io in quel momento gli dico guarda abbiamo questo gruppo Facebook dove puoi incominciare a confrontarti con gli altri genitori e dei gruppi locali gli do riferimento di un genitore della sua regione con cui puoi incominciare a interfacciarsi e poi eventualmente anche con lo psicologo quindi è un processo di consapevolezza quello che devono fare i genitori sulla problematica non è il Marco dammi il numero di uno psicologo che ho bisogno che mi tiri fuori mio figlio perché questo non funziona quindi se uno mi dice ho bisogno di uno psicologo perché il 90% dei contatti è così io gli dico no aspetta incomincia a capire tu qual è il tuo impatto su questo problema come tu inconsciamente perché poi un genitore ovviamente agisce sempre a fin di bene si spera inconsciamente però alimenti questa condizione di tuo figlio e poi eventualmente questo aiuterà a ricostituire l'alleanza genitore figlio quindi a abbassare le armi in famiglia perché poi ci sono delle situazioni drammatiche la condizione di Kikomori distrugge le famiglie tantissime arrivano al divorzio a causa sì perché non sanno più cosa fare e si colpevolizzano a vicenda è colpa tua che gli hai dato troppo che lo vizi no è colpa tua che non so gli dai troppe regole insomma i genitori si scanano tra di loro spesso le famiglie di Kikomori hanno anche un pattern di funzionamento dove la madre è tipicamente più ansiosa apprensiva e ha una personalità anche più forte all'interno della coppia pensa che la nostra associazione dei genitori sono il 90% madri cioè i padri sono praticamente inesistenti a tal punto che abbiamo dovuto fare dei gruppi stiamo sperimentando per esempio nel Lazio dei gruppi separati tra madre e padri perché sennò i padri nei gruppi non riescono a intervenire quando ci vanno perché molto spesso è la moglie che è super forte a livello di personalità i padri invece sono più deboli e questo gli impedisce anche di tirare fuori le proprie sofferenze che sono diverse sul problema fammi capire questo succede quando ci sono entrambi i genitori nel senso il padre quando effettivamente c'è solo lui immagino che esistano dei casi così molto rari molto rari molto rarissimi guarda il 90% delle famiglie no scusa tante famiglie hanno ovviamente sia il padre che la madre ma poi arrivano al divorzio oppure sono famiglie già divorziate quindi lì il problema potrebbe essere per esempio non la conseguenza delle chikomori ma potenzialmente una con causa delle chikomori sono spesso ci sono tante famiglie 20% almeno che è un numero alto di famiglie composte da due persone madre quindi donna e figlio maschio perché è un'altra cosa che abbiamo detto che i chikomori sono tantissimi e soprattutto maschi ok a questo ci torniamo tra un attimo però ancora non ho capito una cosa in questi gruppi che tu dici dove i padri non riescono a interagire in nessun modo questo accade nel senso che nella coppia emerge solo la donna e quindi partecipa a lei o emerge nella dinamica generale tipo se io sono un padre e scrivo vengo comunque no 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 assolutamente sei assolutamente ben accolto però è proprio un approccio diverso al problema i padri non chiedono aiuto o di solito tirano il remi in barca perché cosa succede? cioè mandano avanti la donna o comunque vengono messi indietro un po' si arrendono anche perché sai cosa succede? che tu quando hai un figlio così tu immagina avere un figlio a 15 anni che un giorno ti dici non vado più a scuola è vero che ci sono stati segnali anche prima tu non sei stato in grado di coglierlo li impazzisci perché dici cavolo il mio figlio non va più a scuola come è possibile a 15 anni non è che può stare a casa a volte ti mandano anche gli assistenti sociali perché dici ma come mai non va più a scuola cosa fai? impazzisci cioè non sai più cosa fare chiami medici psichiatri chiunque e le provi tutte cosa fai? provi le buone e le cattive di solito gli uomini tendono un po' più a essere magari più fisici quindi a cercare un impatto più anche tipo dai esce cosa fai? ti stacco il computer cosa che viene fatto spesso a torto perché non va affatto wow dopo che ne parliamo su come uscire dal problema ne parliamo dopo perché voglio capirlo molto bene quello è un mondo ma appunto poi cosa succede? che a un certo punto quello che ho visto io il padre non sa più cosa fare tira un po' più il re mi imbarca è un po' più disilluso impotente la madre molto più ansiosa come profilo questo ovviamente a livello medio e poi non si può generalizzare tutte però quello che ho notato io è che la madre continua non si arrende e quindi cosa succede? che la madre molto spesso va su internet e cerca una soluzione al problema e trova l'associazione dopo magari aver fatto anche uno o due anni di tentativi falliti e questo porta i genitori secondo me a avere un approccio diverso poi le madri incominciano ad entrare nel gruppo sono anche più invogliate a conosce altre madri a fare i gruppi i padri non sempre ma spesso sono un po' più defilati in generale quello che ho notato io è che nelle famiglie che comori c'è uno squilibrio della genitorialità soprattutto a livello di personalità c'è sempre una figura particolarmente più forte all'interno della famiglia di personalità che è la madre che è la madre che è più apprensiva è più attenta e magari appunto questa sua apprensione lato genitore è sempre intesa come una cosa positiva perché oggi su chi c'è lo stigma genitoriale cioè qual è il genitore che oggi viene identificato come cattivo genitore quello che tratta male il figlio no? ah ok che non lo cura o che gli mette le mani addosso però a livello psicologico l'eccessiva attenzione sui figli quindi diciamo l'iperprotezione fa tanti danni mi sento di dire quanti la negligenza sono danni diversi ovviamente la persona la famiglia è negligente al figlio che magari appunto non studia esce con gli amici cazzeggia eccetera la persona la famiglia iperprotettiva rischia in questo periodo storico di favorire l'isolamento del figlio perché mette pressione mette ansia e rende delle condizioni anche che non favoriscono l'indipendenza quel famoso passaggio di transizione no? dall'età infantile all'età adulta deve essere favorito dal genitore attraverso una progressiva indipendenza lasciata al figlio se il genitore perché è molto apprensivo non lascia il figlio avere questa progressiva indipendenza rischia proprio di farsi che il figlio rimanga vincolato alla sua persona alla persona del genitore e quindi rimanga appunto un adolescente il genitore da un punto di vista psicologico deve favorire questa transizione molti non lo fanno molti pensano che il ruolo del genitore sia quello non lo so di aiutare il figlio a diplomarsi o di trovare un lavoro no il compito del genitore non è neanche rendere il figlio felice il compito di un genitore dal punto di vista evoluzionistico psicologico è favorire la transizione all'età adulta in modo che lui sia indipendente e poi possa scegliere la sua vita questa cosa in molti genitori soprattutto nelle famiglie Kikomori non viene favorita non viene favorita ok questa cosa immagino che ci sia anche in Giappone anzi lì ancora di più perché la figura del padre è molto assente molto bravo quindi il problema è un po' lì diciamo cioè tu ritieni che il problema sia un po' lì già agendo su questa dinamica intendo madre e padre non so lavorate su quello sì in generale sulle dinamiche familiari la problematica è lì ma non solo lì questa è una delle con cause degli Kikomori sono con cause sociali quindi più sociologiche che poi magari andiamo a vedere più nel dettaglio ma un po' te le ho già accennate cause familiari cause personali ovviamente non tutti diventano i Kikomori c'è una predisposizione caratteriale più frequente che appunto la persona un po' più timida più introversa a volte anche più intelligente ti dico ci sono anche per esempio dei casi di Asperger negli Kikomori nel senso persone particolarmente ad alto funzionamento che però questa loro eccessiva anche a volte rimuginazione anche modo di relazionarsi con le persone li porta a sviluppare il secondo punto che non ti ho detto che secondo me è trasversale sull'Ikikomori il primo l'ansia del giudizio il secondo è la sfiducia nella società cioè queste persone a causa delle loro esperienze negative dal punto di vista relazionale soprattutto con i compagni ma anche con gli insegnanti e con i genitori incominciano a sviluppare una visione della società come particolarmente negativa come dal punto di vista valoriale lontano da loro e quindi cosa fanno? Incominciano a dire ma io non voglio far parte di questa società ma perché devo sforzarmi di integrarmi in una società che mi respinge e che a me non piace quindi la loro visione incomincia a diventare molto pessimistica e incominciano a dire io in questa società non ne voglio far parte quindi tu genitore insegnante lasciatemi in pace lasciatemi qua perché io nella società ci ho provato a starci mi fa schifo non ci voglio stare e questa dinamica è quella che poi crea la cronicizzazione perché se inizialmente di Comodio è istintivo la preferenza di un contesto piuttosto che un altro quindi sto a casa perché sto meglio che a scuola esatto poi questa cosa incomincia a generare una motivazione razionale cioè io sto bene a casa ma quindi forse non è meglio che io sia a casa non è meglio che io viva qua non sono portato per vivere a casa per stare da solo questa cosa genera anche una negatività nei confronti della società del tipo la società è negativa perché io dovrei sforzarmi e quindi poi genera il processo di cronicizzazione che è un processo molto più razionale e meno istintivo rispetto alla prima parte sto cercando di capire perché adesso tiro in mezzo me perché io mi sono interessato molto a questo argomento perché ci ho trovato dei punti in comune che è una cosa che noto spesso tu ad esempio hai spesso parlato del fatto che non sei stato un ikikomori ma hai vissuto un periodo di confusione sì ho vissuto depressione non ho mai nascosto questa cosa io la chiamo depressione esistenziale è una forma di depressione più legata ai temi esistenziali del tipo ma che senso ha vivere se poi si muore queste cose qua che un tempo dal punto di vista psicologico venivano protette dalla religione oggi con il progressivo diciamo come si dice e meno i giovani di oggi sono legati alla depressione quindi hanno meno questo supporto dal punto di vista psicologico attenzione io quando faccio questo discorso a volte le persone pensano che io sia come dire un religioso che voglia no io sono ateo lo dico ma dal punto di vista psicologico la religione ha un senso fungeva come protezione alle domande esistenziali se viene meno questa protezione religiosa il ragazzo ateo che non crede che magari ha avuto un'educazione religiosa ma poi ha capito che non crede è molto esposto a questo tipo di dinamiche e perché non ha delle risposte immediate e se tu non hai delle risposte a queste domande perdi la motivazione perché mi devo alzare la mattina perché devo che ne so lottare contro la mia timidezza e cambiarmi se io non ho una motivazione intrinseca a dover fare quella cosa quindi dietro l'ichicomori non c'è solo paura non c'è solo ansia io lo dico sempre perché poi le persone mi dicono ma quindi sono solo persone che hanno paura di uscire di casa no c'è una forte perdita di senso di senso anche dal punto di vista esistenziale io ho vissuto un periodo di depressione esistenziale che poi è diventata diciamo anche una depressione più generalizzata perché la depressione di fatto è anche esistenziale o traumatica comunque porta alla stessa sintomatologia quindi calo del tono dell'umore apatia che è un'altra sensazione molto sottovalutata dalla depressione perdita di energie io l'ho vissuta non mi sono mai isolato del tutto probabilmente anche per carattere mio però penso che posso riconoscere queste dinamiche anche in molti chi come ho che magari a un certo punto a causa dell'ansia del giudizio della perdita di senso eccetera si sono lasciati andare in un naufragio di isolamento ok quello dicevo perché mettiamola così prima che tu venissi qua io ovviamente cioè come ho detto in studio oggi tu hai conosciuto una sola mia collaboratrice qui c'è in genere un po' più di gente e ovviamente abbiamo iniziato a parlare del fenomeno tutti senza saperne tantissimo tipo questo o quello e ognuno ha tirato fuori le sue esperienze io ho tirato fuori le mie è emerso che non fossimo tutti d'accordo sul fatto che parlo solo di me ovviamente non di chi non c'è non è chiaro se io lo sia stato oppure no perché dico questo perché so che in questo momento questo video o questo podcast potrebbe essere visto ascoltato da genitori per quello ho voluto introdurre l'argomento così ma anche da ragazzi che potrebbero potenzialmente vivere una situazione simile o pensare di essere lì per viverla insomma avere dei dubbi in merito anche io ho dei dubbi in merito perché faccio tutto un giro per arrivare alla domanda che volevo farti io ho vissuto un periodo di non dico isolamento però molte delle cose che hai detto in me risuonano un pochettino ad esempio l'aver l'esserti chiesto l'aver vissuto un periodo nel quale dici ok io sto meglio a casa che per me è stata l'università principalmente anche il liceo ma soprattutto l'università molti si isolano nel periodo universitario quello è stato un momento nel quale io ho detto ok io sto molto male io ho avuto gravi una grave depressione quindi non c'è proprio una cosa clinica e anche da ricovero proprio una roba pesante però elementi di questo tipo in me c'erano io mi facevo i discorsi tipo io sto meglio a casa perché dovrei farlo ma in effetti sfugo da una situazione peggiore rispetto a quella però la situazione è di stare a casa ora io non stavo completamente a casa avevo contatti con la mia famiglia anche lì ci sono stati ovviamente delle dinamiche particolari anche lì mi hai un po' ricordato la mia esperienza io però non ero completamente isolato quello che faccio è voler giocare a World of Warcraft fondamentalmente anch'io ci ho giocato per anni Alleanza o Orda? Orda io Alleanza oh ok sbagliato era un pala proprio sbagliatissimo no io giocavo Rogue per chi lo volesse sapere peraltro quella cosa lì che facevo la notte non il giorno immagino che ci sia anche questa cosa qua sì sì in versione sonnoveglia assolutamente ok era paradossalmente un contatto con l'esterno cosa che sia credo sia parte dell'Iki Komori sopperisco alla mancanza di rapporto sociale con i rapporti online esatto ok però io avevo anche degli amici che giocavano con me cioè sono tutti finiti nel buco quindi ogni tanto comunque i rapporti umani c'erano lo stesso questa cosa secondo me è stata un aggancio ho fatto tutto questo giro per dire questo io mi rendevo conto che non stavo vivendo una vita ok cioè non mi sono mai detto ma potrei vivere così cioè mi rendevo proprio conto che non stavo combinando niente e avevo questo costante senso di perdita di tempo e di non sto combinando niente della mia vita non sono mai riuscito a uscirne da solo a un certo punto poi ne parliamo ci sono stati i miei genitori secondo me a darmi un po' loro un po' io però c'è questa situazione che tu dici di mi cronicizzo nel senso di dire ma potrei anche fare l'eremita io non non riesco a capirla l'ha preciso hai ragione non è un ma faccio l'eremita a cuor leggero è una visione un po' più sofferta è del tipo io ho provato a vivere fuori ci ho provato a uscire da questa mia condizione più e più volte mi sono sforzato non ci riesco continuo a fallire sto male quando esco magari mi sforzo anche di fare quell'uscita con gli amici non 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 mi dà nessun tipo di sensazione positiva quindi a un certo punto quello che succede è che la persona un po' si convince di essere sbagliata quindi di essere diversa e quindi che il suo posto forse è lì ha contatto con il mondo digitale che appunto è un tema interessante e un po' ovviamente riconosce il fatto di stare a perdere tempo anzi l'ansia del tempo perso per me è una delle cose principali delle Kikomori perché se inizialmente il Kikomori appunto avviene con tutto il meccanismo che ti ho detto poi il meccanismo psicologico che non ti fa uscire non è solo quello del convincimento che appunto non c'è qualcosa che ti piace fuori ma è soprattutto il fatto di ma io adesso come giustifico agli altri di aver perso tre anni della mia vita per essere bassi è tre anni perché ti dico non è un tempo così grande come giustifico a 25 anni per esempio di non aver mai baciato una ragazza o di non aver perché le pressioni sessuali sono fondamentali perché sono sociali anche quelle sono sociali ma spiegano anche secondo me in parte perché sono soprattutto maschi è un tema gigantesco non so se riusciremo a approfondirlo bene ma è un tema molto interessante però ecco la paura del tempo perso pensa per esempio a un colloquio di lavoro a me alcuni hanno scritto ma io cosa devo dire a un colloquio di lavoro a chi mi chiede cosa ho fatto dal 2000 al 2000 devo dire che sono stato uniki komori questa è una società che non ammette buchi cioè non ammette buchi qual è la risposta quella domanda non lo so non lo so perché non ammette buchi questa società tu non puoi perdere tempo in questa società tu devi essere costantemente al ritmo della realizzazione personale se tu ti fermi gli altri vanno avanti non è che ti aspettano è una corsa quindi se tu perdi tempo poi a un certo punto ti giri indietro dici oh mio dio è già passato un mese un anno due anni e ma come faccio a uscire e rimettermi al pari degli altri già eri in difficoltà prima perché magari eri più fragile avevi meno competenze sociali eccetera poi dopo che passa il tempo è ancora peggio non è che esci e dici vabbè riparto da zero no qua non puoi mai ripartire da zero questo è il problema molto spesso la società non ti consente di ripartire da zero è una società veloce ipercompetitiva è questo che intendo con competizione la competizione è se gli altri fanno tutti questi sforzi per realizzarsi e tu a un certo punto non li fai per diversi motivi poi devi rincorrerli perché sennò ti sentirai costantemente in difetto rispetto loro e a un certo punto l'Ikiko Mori cosa fa? dice io ho perso troppo tempo non riesco più a rimettermi in pari ma ho il misedo misedo abbandono cioè tiro il remi e dico questa è la mia condizione da qui all'eternità ovviamente è una decisione sofferta non è una decisione presa a cuor leggero però è una sensazione di dire io non riesco più a rimettermi in pari con gli altri quindi non so cosa fare è una sensazione ovviamente anche di confusione ok torno al mio esempio per farti la domanda successiva io a un certo punto io sono uscito da quello stato che non so neanche dirti se io fossi Ikiko Mori posso dire una cosa su questo secondo me non è importante definirsi è importante avere questa parola per parlare del fenomeno però poi l'etichetta a me non interessa quando uno mi scrive io non so se sono Ikiko Mori dico non è importante qual è il tuo problema hai questa pulsione all'isolamento sociale che è la dinamica principale Ikiko Mori hai questa paura del giudizio sociale allora puoi rientrare se ti interessa in questo fenomeno sociale dell'Ikiko Mori ma non è importante che tu sia o non sia Ikiko Mori che tu rispetti tutti i check io non sono nosologico io ho un approccio molto dimensionale al problema cosa hai? più depressione più ansia più fobia bisogno di isolarti questo è il mio approccio io sono contro la nosologia le etichette quindi sì io posso dire che tu come me avevi una personalità vicina all'Ikiko Mori una sensibilità possiamo così dire esistenziale sociale che si avvicina al fenomeno dell'Ikiko Mori poi magari per la tua famiglia per le condizioni ambientali per il tuo carattere si è riuscito a reagire ci sono persone ovviamente dipende da tutto il contesto perché magari ti mancano tutti quegli appigli che magari se la famiglia continua a metterti pressione per esempio una dinamica che può succedere e tu non esci cioè sei in una condizione familiare che peggiora la tua ansia per cui tu non esci e tua madre ogni giorno entra e dice ma perché non sei come gli altri ma perché non esci con i tuoi amici ma perché non vai a scuola ma cosa ho fatto di male tutte queste cose anche l'abnegazione dei genitori che a volte segue questo problema per cui c'è un genitore una volta che mi ha detto io ho lasciato il lavoro per star vicino a mio figlio io ho detto no no tuo figlio poi si sente ancora più in colpa perché oltre per il suo fallimento si sente in colpa anche per il tuo perché un altro problema secondo me importante è che oggi i genitori ritrovano la realizzazione personale indirettamente nella realizzazione del figlio quindi solo oggi secondo me è una dinamica che è aumentata molto di più nel tempo perché oggi c'è molto più il figlio unico quindi il figlio diventa sempre più un prodigio qualcuno che già nasce già è qualcuno che deve inventare un fenomeno che ha delle abilità sicuramente straordinarie che devono essere scoperte ci sono tante aspettative soprattutto quando i figli sono pochi e nascono in contesti benestanti non a caso di chi comore è un problema della società benestante certo è un problema di chi se lo può permettere di stare a casa perché nei paesi in via di sviluppo se una persona ha 16 anni deve lavorare se no non mangia non c'è di chi comore va a lavorare assolutamente questa aspettativa dei genitori questa realizzazione indiretta che i genitori hanno nella realizzazione dei figli mette un'incredibile pressione perché tu non solo ti devi realizzare per te ma se non ti realizzi poi sai che il tuo genitore incomincerà a dire mi dispiace ma come mai ma come mai non sei diventato quello che io pensavo magari non lo dice ma glielo leggi negli occhi o glielo leggi nel linguaggio del corpo anche per questo gli chikomori stanno svegli di notte molti stanno svegli di notte per non incrociare i genitori quindi per non avere lo sguardo giudicante dei genitori certo perché è una fonte di giudizio potentissima quella dei genitori per quello che tu dicevi prima il giudizio dei compagni no c'è il giudizio dei compagni il giudizio dei genitori e poi il tuo giudizio che ovviamente è quello più pesante che è una somma un po' di quello che tu pensi gli altri pensano di te certo ma anche magari mi direi che è così oppure no parlo sempre della mia esperienza muoverti di notte ti permette di evitare tutte le dinamiche del giorno che ti fanno vedere il tempo che passa perché vedi i genitori che vanno al lavoro la gente che fa le cose esattamente e invece la notte tutto è fermo tutto è fermo tu che hai fatto l'università come me hai invertito il ritmo sonnoveglia perché l'università ti porta a questa dinamica distruttiva io ho parlato anche di università e di come l'università possa essere un periodo veramente infido dove le persone che non sono in grado di organizzare rischiano di perdere qualsiasi riferimento temporale gli Ikikomori cercano questo la completa non percezione del tempo che scorre perché il tempo che scorre è un'ansia perché è tempo che scorre non utilizzato alla realizzazione personale cioè quindi sprecato perché se tu non ti stai realizzando dal punto di vista lavorativo sentimentale amicale tutto quello che vuoi la realizzazione personale non intendo solo economica intendo tutto quello è tempo sprecato per la società e quindi di notte mentre tutti dormono e quindi non si stanno realizzando tu dici vabbè meglio no anch'io non mi sto realizzando però nessuno in questo momento lo sta facendo quindi è diciamo un meccanismo protettivo anche quello di stare svegli di notte in più di notte non incontri i tuoi genitori e hai una infinità di tempo che non è spezzettato da nessun tipo di routine cioè non c'è il pranzo non c'è la merenda non c'è il tè non c'è la cena cioè è tempo è tempo vuoto che tu puoi impiegare come vuoi e questa è una sensazione psicologica protettiva per chi è in questa condizione ok ho una domanda da farti che è arrivata un utente però dico prima questa cosa io a un certo punto sono dopo aver realizzato il fatto che non stavo combinando niente aver molto faticato all'università per una migliaia di ragioni non solo per questo quindi non voglio che la gente pensi che sono un eroe perché assolutamente no cioè è stata una serie di fattori che mi ha fatto perdere un po' di tempo poi ho detto vabbè faccio un corso a caso che è stata una roba che mi hanno fatto fare i miei genitori mi hanno detto perché non fai questo ok e io l'ho fatto e poi da lì era una roba sul management alberghiero cioè non c'entra niente con quello che ho però da lì ho iniziato a a prendere delle skill ho preso quelle skill ho iniziato a dire le posso applicare qui 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 e da lì ho rimesso in moto la macchina certo ok non era di certo la prima volta che i miei genitori mi proponevano di fare qualche cosa dico questo perché io mi sto ancora immaginando chi sta ascoltando in questo momento e ogni volta che io sentivo qualcuno che diceva dovresti fare perché non fai ti aiuto io io avevo un irrigidimento esatto e dicevo no addirittura mi ricordo che a parte che giustificavo sempre il fatto del no con delle scuse varie tipo che era normalmente la gente non mi capisce cioè fondamentalmente era quello vabbè si parla di un periodo di adolescenza quindi sì che poi le dinamiche si mischiano ai chicomori di adolescenza spesso si mischiano alcune dinamiche sono quelle dell'adolescente e quindi era sempre no 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 la gente non capisce perché io non voglio fare questo non sono io il problema è che la gente non mi capisce quindi ti dico questo perché c'è una domanda che secondo me è molto interessante è di Matteo che dice sono italiano e introverso vivo in Giappone da sette anni però e tutti pensano che io sia estroverso quindi c'è questo cambio di no perché ovviamente essendo un problema culturale come ti sposti cambia un po' l'aspetto e lui dice mi ha stupito vedere come ci sia molta tolleranza nei confronti degli introversi e invece fastidio nei confronti degli estroversi perché ovviamente le dinamiche sono diverse guardi per terra no e lui dice pensavo che fosse questa tolleranza a favorire il fenomeno degli chicomori e invece la scopro perché sanno che ci sta arrivando che esiste anche in Italia e tutto questo dice cioè è giustificato dalla sua domanda che è fondamentalmente non sarebbe sufficiente togliere ad un chicomori come dicevi tu internet vive di elettricità per farlo uscire dalla caverna perché io so che chi sta ascoltando questa cosa in questo momento pensa che sia una bestemmia cioè perché io stesso che il mio giovane che il mio io giovane che ascolta questa cosa che sto dicendo avrebbe cringiato tantissimo ma essendoci passato io ritengo che sia invece un po' una questione che avrebbe un po' funzionato cioè che spingere un pochettino spingermi un pochettino cosa che poi è avvenuta in un certo senso mi sono stati molto in gamba mi abbia mi abbia aiutato e aiuti perché tu dicevi ad esempio nei paesi in via di sviluppo questa cosa non c'è sì è una questione un po' complessa allora diciamo che la pressione dei genitori deve essere proporzionale a quella che il ragazzo riesce a reggere se tu presti troppo come dicevi prima potresti rigidirti quindi fai questo perché non fai questo ma no lasciami stare non capisci niente anzi una risposta che spesso i genitori si sentono dire non sono io il malato siete tu siete voi i malati voi società quindi siete voi il problema no perché ripeto c'è anche un po' una dinamica adolescenziale di rifiuto dell'autorità eccetera quindi si si mischiano allora il tema internet è molto delicato io lo definisco il grande equivoco perché in giappone questa cosa dell'ikikomori uguale internet non c'è perché lì il problema è nato negli anni 60 e si è intensificato negli anni 80 dove il personal computer e internet non era ancora diffuso e quindi lì si capisce che la dinamica è precedente alla nuova tecnologia in italia il fenomeno si sta diffondendo in un periodo storico in cui sono esplose le nuove tecnologie e quindi soprattutto i media fanno questo errore dicono ikikomori uguale dipendenza da internet infatti tantissimi mi contattano chiedendomi di parlare di ikikomori poi scopo che volevano parlare di dipendenza da internet e a quel punto gli dico eh ma è un altro argomento magari sono andato anche in una trasmissione televisiva dove loro erano convinti che ikikomori fosse la persona attaccato tutto il giorno allo smartphone o tutto il giorno a pc non è così il ruolo delle nuove tecnologie nel ikikomori è un po' sfumato ha dei pro e dei contro i pro sono quelli che nel momento in cui tu abbandoni la scuola perché non ce la fai abbandoni gli amici eccetera internet diventa tutto per te diventa la scuola perché hai informazione diventa i contatti sociali che tu non riesci a fare con la tua immagine quindi con la tua identità pubblica ma attraverso avatar o nickname quindi salvi dei contatti sociali che in qualche modo ti proteggono perché eventualmente un domani se tu dovessi uscire hai magari già dei contatti che hai trovato con passioni simili alle tue passioni che in qualche modo ti spingono anche ad andare avanti e poi ovviamente internet è qualcosa che ti tiene collegato alla società in generale io quando parlo di isolamento sociale bisognerebbe fare una precisione l'ikikomori non è un eremita perché l'eremita è colui che si isola dalla società volontariamente esatto ma soprattutto si isola dalla società se tu parli con un ikikomori questo sa tutto probabilmente guarda i tuoi video guarda di politica estera non è un isolato dalla società dal punto di vista mentale lo è dal punto di vista fisico perché poi è l'immagine fisica l'identità che si collega ai tuoi fallimenti ma tu nel momento in cui puoi nascondere questa identità il tuo bisogno di contatto sociale rimane pensa che io avevo aperto anche delle chat per i ikikomori dei gruppi come per i genitori che avevano dentro una marea di ragazzi e avevano un numero di interazioni giornaliere impressionante a testimonianza del fatto che queste persone non è che non vogliono interagire è che non trovano nessuno con cui farlo che magari hanno un allineamento di interessi ma soprattutto hanno paura a farlo con chi le giudica quindi se io entro in una chat e dico io sono isolato da cinque anni e invece di sentirmi dire oh mio dio ma come mai sei malato curati sento un altro che dice io da tre io da due è chiaro che lì anche esporsi e raccontare i propri problemi è un po' più facile perché ti senti compreso quindi diciamo tornando al tema delle nuove tecnologie che il computer sostituisce delle cose dall'altra è ovvio che poi si genera dipendenza perché diventa il tuo mondo e quindi questo può generare un meccanismo anche di difficoltà poi di staccarsi dal computer ma quello che ho notato io è che ogni volta che i genitori staccano il computer con la forza perché capita il genitore fa uno più uno vede il figlio tutto il giorno al pc e dice pc male i media continuano a dire che il pc è il male gli stacco il pc e magari il problema si risolve no ci sono stati anche dei casi di cronaca dove il ragazzo si è buttato dalla finestra perché perde l'unico suo ma è un gesto violentissimo praticamente arriva una persona che ti toglie il tuo mondo le tue relazioni i tuoi interessi il tuo trattenimento tu ti trovi tutto il giorno nella tua stanza a pensare a quanto fai schifo a quanto sei fallito se va fatto questo gesto di togliere il pc va fatto in modo graduale non c'è dubbio io non parlavo di tagliare sicuramente neanche Matteo però effettivamente esiste questa cosa o no cioè rendere diciamo un po' più difficoltosa la vita dell'Iki Komori no non più difficoltosa meno comoda bravo questo è il punto secondo me le nuove tecnologie hanno accelerato la diffusione del fenomeno ma lo hanno reso meno estremo cosa vuol dire che prima chi si isolava sapeva che negli anni 80 era un isolamento totale quindi a meno che non parlavi con i tuoi genitori non parlavi con nessuno oggi cosa succede che l'opzione dell'isolamento sociale è più soft non è un salto così repentino come noi possiamo immaginare è un tendo a fare la mia vita più online e tendo a scartare la mia vita più offline che è una cosa che già facevo prima che è stato un percorso probabilmente graduale quindi non è un salto del tipo basta oggi non parlo più con le persone mi butto sull'online ma è un già sto tanto online piano piano preferisco stare sempre più online perché sto meglio quindi questa sensazione ti rende anche meno la sensazione di pericolo di quello che stai facendo perché se prima era una cosa repentina quindi tu dicevi ok oggi sono isolato ieri non lo ero adesso è una cioè ci scivoli dentro ci scivoli dentro quindi quando te ne accorgi che sei sfumato in questa depressione di isolamento e di di angoscia di ansia a quel punto rischi già di aver perso talmente tanto tempo che poi sei già innescato all'altra dinamica del tempo perso e quindi quando ti rendi conto di esserti isolato magari già hai paura di essere rimasto indietro come si esce? come si esce? ma vado via la domanda allora ovviamente non ho risposte sono tutte congetture ovviamente tra tutte le interviste che io ne ho visto alcune non tutte perché appunto erano un po' ho visto alcuni che effettivamente dicevano di non esserlo più cioè di essere riusciti in qualche modo alcuni un po' di più alcuni un po' di meno a perlomeno a sfuggire dalle dinamiche più estreme dell'orisolamento c'è un punto in comune tra tutte le storie? allora chi ne esce fondamentalmente ritrova uno stimolo per uscirne quindi secondo me la cosa chiave è se uno vuole uscire dalla condizione che muore non deve prendere e uscire di casa e fare una pasticciata nel quartiere e ritornare quella è una cosa che di solito rassicura i genitori che dicono ah mio figlio è uscito è uscito ok perché poi sono tutti partiti di anime anche questa è una cosa interessante e quindi poi magari vogliono andare a sushi eccetera però quella è una cosa che sono tutti partiti in anime i genitori o gli hikikomori? no gli hikikomori però questa è una cosa interessante perché gli hikikomori sono tutti partiti di anime magari lo trattiamo in un'altra puntata perché non voglio dilungarmi però il discorso è non è l'obiettivo farlo uscire l'obiettivo è che lui ritrovi la motivazione intrinseca per fare qualcosa all'esterno quindi l'obiettivo è farlo stare bene come fai a far sì che un hikikomori sia bene ma soprattutto come fai a far sì che lui trovi la motivazione per reagire a una condizione così brutta dal punto di vista psicologico così cronicizzante è un lavoro lungo è un lavoro di cambiamento della sua interpretazione della realtà cioè lui ha un'interpretazione della realtà molto negativa molto pessimistica le relazioni per lui sono qualcosa che non danno gioia che non sono positive tu in qualche modo gli devi cambiare questa credenza come lo devi fare? i genitori per esempio hanno un ruolo importante se il genitore è il primo che conferma che le relazioni fanno schifo è ovvio che tu non dirai oh che bello c'ho voglia di uscire ma soprattutto questi ragazzi a volte sono persone castrate dal punto di vista della loro predisposizione personale cosa intendo? cerco di essere veloce però sono temi molto grandi tranquillo abbiamo tempo io parlo tantissimo di scuola perché perché credo che una delle dinamiche che porta di Kikomori sia la standardizzazione della scuola cioè il fatto che la scuola tenda non a valorizzare le individualità ma tenda a standardizzare questo è un problema perché se tu standardizzi farai sì che quelli che sono in linea con il tuo standard performeranno tantissimo e questo è un po' il sistema capitalistico chi è bravo e chi usa queste regole di funzionamento chi è competitivo in generale diventa fortissimo oggi abbiamo sempre più under 30 multimilionari multimiliardari perché è il sistema competitivo che fa sì che le persone tirino fuori il massimo ma ovviamente chi non ha queste competenze crolla quindi come c'è quello che sfrutta la competizione per eccellere c'è quello che soccombe sotto la competizione quindi il problema è se io standardizzo anche gli obiettivi della competizione quindi le professioni gli stili di vita ti tolgo l'individualità se ti tolgo l'individualità come persona rischio di toglierti le tue motivazioni intrinseche faccio un esempio concreto per far capire se io sono un grande ballerino e potenzialmente sono in potenza un grande ballerino ma a scuola mi insegnano solo le x materie e la danza io non la scoprirò mai a meno che non farò un corso da solo extra scuola quindi già magari servono delle condizioni economiche io quella mia predisposizione non la scoprirò mai e quindi penserò di non saper fare niente penserò di non aver talento penserò di essere una persona senza nessun tipo di obiettivo nella vita se io per qualsiasi motivo scopro qualcosa che mi piace fare allora lì trovo la motivazione intrinseca perché intrinseca vuol dire che io voglio raggiungere qualcosa non è qualcosa che faccio per evitare un danno cioè per evitare un problema o una paura questa è la motivazione istrinseca di solito faccio qualcosa per accontentare gli altri faccio qualcosa perché ho paura di fallire faccio qualcosa perché ho paura del giudizio se io trovo qualcosa che veramente mi interessa mi appassiona allora lì trovo anche la voglia di cimentarmi contro anche la mia personalità che ne so sono timido trovo la voglia di lottare ti faccio un altro esempio velocissimo c'è un ragazzo che ho conosciuto di 19 anni che è isolato da quando ne aveva 12 che l'ho incontrato perché io mi relaziono molto con gli Kikomori non da un punto di vista clinico ma diciamo ho contatti un po' più amicali informali che ho scoperto che era molto bravo a disegnare e lui gli ho detto fai i disegni per il mio sito i Kikomori Italia il blog lui ha detto va bene li faccio tanto non ho niente da fare ti aiuto poi questi disegni sono stati visti da una giornalista che si è interessata e lo ha chiamato a Milano lui abita a Latina a fare una mostra dei suoi disegni lui non usciva di casa da anni oh ha detto di sì subito ha detto vengo è andato in questo locale di Milano con i suoi disegni appesi alle pareti e lo vedevi era una persona normale certo un po' impacciata non usciva da un sacco di tempo non aveva amici ma cosa è successo cos'è che l'ha fatto uscire di casa il fatto che volesse fare qualcosa che gli interessasse veramente non qualcosa che gli venisse imposto dall'alto cioè devi fare questo devi laurearti devi diplomarti devi sposarti che magari sono cose che uno intrinsecamente non sente poi c'è chi li sente ovviamente ma ha trovato qualcosa per cui l'uscire di casa e lottare contro i propri limiti aveva un interesse per lui era qualcosa che gli piaceva ok il senso di questo lo capisco però mi sembra che i conti non tornino su alcune cose allora tu hai parlato appunto della mancanza di stimoli da parte della scuola no? non della mancanza di stimoli dell'eccessiva non trova i talenti la scuola non rispetta le individualità tende molto di più a omologare ok però inizialmente mi hai parlato del fenomeno degli ikikomori come una risposta a una pressione sociale che non è solo della famiglia ma può essere anche scolastica dell'ambiente più largo in generale quindi innanzitutto se comunque una scuola non ci va questi talenti non emergono ad esempio questo ragazzo che tu mi dici se non andava più a scuola da quando aveva 12 anni la scuola potrebbe essere il massimo possibile ma tanto il problema sarebbe emerso ugualmente ma lì di chi è la colpa è di lui che ha abbandonato la scuola o della scuola che non è stato in grado di tenerlo dentro anche qua c'è un po' non credo che sia colpa di nessuno però se devi andare a trovare delle responsabilità devi attribuire delle responsabilità quindi secondo me oggi la scuola non è inclusiva perché 12 anni sei alle medie sì alle medie che è il periodo peggiore del mondo è vero per tutti stavo parlando anche prima anche le superiori non scherzano io le ho vissute malissime io sì io ero un ragazzo molto timido anche se adesso sembro un po' più sicuro però ero molto molto profilo di chi comore timido bullizzato poi l'esperienza della vita mi hanno portato a rafforzarmi però il problema è che in quell'età tu non hai tutti gli strumenti per reggere quindi a volte riesci a sopravvivere come è capitato per me e te siamo riusciti a uscire magari da un momento difficile e c'è chi magari sprofonda quindi rimane invischiato in queste dinamiche però parte più o meno da una stessa fragilità di base ok però vedi questa è una cosa interessante adesso la recuperiamo però finendo la mia diciamo critica a quello che stavo dicendo in realtà è una mia confusione tu hai anche parlato del fatto che il fenomeno spesso accade nel passaggio all'università il secondo periodo più critico sono due periodi più critici quindi medie superiori post diploma università perfetto a quel punto qualche interesse personale dovrebbe già comunque essere emerso no tipo non so cosa fare della mia vita quello è tipico dell'università ma mi piace fare questo e questo e questo sì tipo io sapevo che mi piacevano i giochi di ruolo che mi piaceva raccontare storie che mi cioè avevo anche già una percezione di quello che ero un po' bravo a fare oppure no magari non sapevo come applicarlo io non avevo idea che l'avrei applicato in questa cosa che sto facendo adesso però un pochino hai già la consapevolezza di quello che sei in grado di fare oppure no a prescindere se poi la scuola che ti spinge certo la scuola ha un ruolo non è tutto però la scuola ti deve dare secondo me più strumenti per capirlo quindi cercare di farti conoscere più cose poi tu potrai scoprire cose in cui sei ben predisposto per esempio questo tu a scuola non avresti mai immaginato di poterlo fare però perché è una cosa che nella scuola non può essere inserita potenzialmente il videomaking il montaggio video oppure la realizzazione di un format per youtube perché la scuola deve essere solo le x materie storiche e basta perché tante persone hanno predisposizioni molto variegate noi siamo molto diversi come interessi tu dici uno lo può capire è vero lo può capire se è fortunato magari lo scopre facendo delle cose però poi non ha gli strumenti per riuscire a concretizzarlo in una professione quindi magari rimane completamente qualcosa che al quotidiano e l'altra questione sulla scuola è le soft skills le life skills cioè la scuola oggi purtroppo e questo è un macro tema scuola insegna molto poco a vivere io quando chiedo agli Kikomori ai ragazzi isolati per semplificare cosa secondo te la scuola ha sbagliato nel tuo percorso loro mi dicono sempre o comunque una delle cose che viene più fuori è la scuola non insegna a vivere la scuola insegna le materie però poi io fallisco non tanto nella cultura ma fallisco nella capacità di stare in questa società nel reggere le pressioni nel rapportarmi con gli altri che sono fondamentali tanto quanto se non di più mi verrebbe da dire delle competenze tecniche che puoi invece sviluppare molto di più nella tua vita hai molta più possibilità di crescere a livello tecnico nella tua vita ma in quella fase della vita hai molto più bisogno che ci sia qualcuno che curi la relazionalità che stia attento per esempio che non ci siano dinamiche di bullismo nella classe è un problema gigantesco in Italia oggi si parla tantissimo di cyberbullismo ma il problema rimane il bullismo più che il cyberbullismo perché fa tanto figo dire cyberbullismo però poi il bullismo che avviene in classe chi lo combatte c'è qualcuno che se ne interessa molto poco secondo me perché è un bullismo magari anche un po' sfuggente latente non è il pugno in faccia non è la sberla è la derisione l'isolamento il fatto che ti deridano ti sfottano e questo appunto è il bullismo che porta poi a chi comore quindi la scuola ha tante responsabilità non sono solo della scuola io ogni volta che parlo di qualcuno gli insegnanti per esempio si aggabbiano parlo della scuola nei miei seminari e si alza l'insegnante e dice ma la scuola ha un sacco di problemi non ha soldi ok parlo dei genitori e i genitori mi dicono eh ma i genitori beh ovviamente nessuno vuole prendersi la responsabilità io non voglio dare la colpa a nessuno sto solo dicendo ci sono una serie di fattori familiari scolastici sociali personali che favoriscono questo fenomeno poi le proporzioni cambiano da caso a caso ci saranno casi dove la famiglia è ottima e magari il ragazzo è molto fragile casi in cui la famiglia è un disastro e il ragazzo ha le competenze quindi non è così semplice dire da dove nasce Likiko Mori sicuramente la cosa trasversale è quest'ansia della pressione di realizzazione personale ok dico un'altra cosa un po' forte credo vai cioè forte nel senso di nuovo mi metto nei panni di chi sta ascoltando e potrebbe avere questa cosa che sono io fondamentalmente un tempo tempi addietro ora che io sono arrivato ad avere 36 anni e quindi mi sono fatto tutto un percorso di diventare adulto iniziare a fare delle cose eccetera posso dire di essere comunque grato delle cose brutte che mi sono successe che è un aspetto che ho paura non venga considerato in tutto questo discorso del aiutare nel passaggio che tu dicevi alla vita adulta che non è anche un po' fatto di quelle cose ora non sto dicendo che i ragazzi devono essere presi e buttati in una stanza dove vengono buddizzati per carità però è comunque un po' parte del crescere no io sono stato buddizzato ho fatto delle cose che delle quali non sono no ci sono un sacco di eventi che peraltro avevo dimenticato e sono saltati fuori mentre mi preparavo questo podcast perché cercavo di ripensare al periodo delle medie del liceo un sacco di aspetti di eventi non belli su di me su di altri che ho visto accadere però alla fine di quelli lì non fanno un po' parte del diventare adulto del costruirti un po' una pelle un po' più spessa una corazza anche quella è parte della vita assolutamente sì il problema è che qualcuno fallisce non sai come perché non è chiara la dinamica però c'è qualcuno che quel passaggio in avanti non riesce a farlo quindi tu superi tanti problemi superi tante difficoltà e diventi sempre più forte è questo che distingue anche un adulto da un ragazzo gli strumenti che un adulto ha perché ha fatto delle cose ha imparato è diventato sempre più resiliente ho capito che questo discorso però per un adolescente non si può fare nel momento in cui la pressione l'elemento negativo è talmente forte che lui non riesce a rialzarsi nel momento in cui non riesce a rialzarsi si profonda o nell'ikikomori o a seconda della personalità in altre problematiche nel consumo di droga nell'autolesionismo nell'anoressia ci sono tante dinamiche legate alle pressioni sociali l'ikikomori è una soluzione a una pressione che il ragazzo non riesce più a gestire e che porta per predisposizioni temperamentali a quella soluzione di come dire protesta slash perché c'è anche un po' di protesta ovviamente sulla società io credo che il kikomori sia una protesta sociale anche del dire la società fa schifo però è una protesta che non avviene in piazza non avviene nei forum avviene nella propria silenziosa camera e questo fa sì che questo fenomeno pur essendo molto diffuso non emerga perché poi le stesse persone che ne soffrono non hanno gli strumenti per poter reagire a questa loro difficoltà sono d'accordo con te assolutamente la vita adulta è fatta di superamenti di ostacoli e mettere questi ragazzi troppo nella bambagia probabilmente non è la soluzione corretta bisognerebbe trovare il limite giusto anche a seconda delle diverse fragilità per far sì che alcuni ragazzi questo livello di pressione troppo alto a livello medio distrugga i più deboli certo e favorisca i più forti perché secondo me il kikomori lo dico anche in modo semplice è un effetto collaterale del capitalismo non è una critica al capitalismo la mia io non sto dicendo è meglio questo sistema o l'altro sto dicendo che il capitalismo questo sistema favorisce la competizione e in questa competizione ci sono i vincitori ma ci sono anche i vinti ci sono quelli che riescono a emergere ci sono quelli che perdono ci sono quelli che corrono e quelli che si siedono l'ikikomori è questo è chi non riesce a tenere il passo quindi tu puoi dire ma sei debole ma perché non reagisci ma perché non riesci a superare questo momento puoi dire quello che vuoi però ci sono persone che in questo contesto sociale non riescono a tenere il passo e quindi l'ikikomori è la loro soluzione è il loro nascondiglio è il loro modo per nascondersi da questa pressione se io mi nascondo nessuno mi vede e se nessuno mi vede l'ansia del giudizio nessuno mi giudica perfetto a parte me perché il tuo giudizio non puoi mai rifugirlo quello rimane e infatti loro tendono a giocare tanto a intrattenersi proprio per non pensare perché nel momento in cui realizzano la loro propria condizione gli cade il mondo addosso e dicono oh mio dio cosa sto facendo dalla mia vita e questo è distruttivo è devastante e può portare a qualsiasi genere di atto però ovviamente queste persone poi messe nel giusto contesto con i giusti strumenti possono reinserirsi nella società o no certo che sì il problema è che più stanno isolati è più difficile infatti la prevenzione è fondamentale se tu riesci a intervenire nelle prime fasi quando non c'è ancora l'ansia del tempo perso quindi non c'è tutta quella dinamica dell'oh mio dio come giustifico i miei anni persi c'è anche una visione della società negativa non cristallizzata per cui tu stai dieci anni in isolamento e continui a rafforzare la tua idea che la società fa schifo che tu non vuoi starci che tu stai meglio lì quindi è molto più facile malleabile una persona intercettata all'inizio il problema è che il fenomeno non è conosciuto quindi poi le persone chiedono aiuto o vengono riconosciute tardi quando tutte queste dinamiche di cronicizzazione si sono già innescate e quindi poi tutte le difficoltà di reinserimento sono conseguenziali se io riesco a intervenire sulla scuola per esempio ho un ambiente in teoria protetto o comunque non competitivo dal punto di vista capitalistico che mi può aiutare a reinserire il ragazzo ma se io lo devo reinserire quando questo ha 25-30 anni nel mondo lavorativo il mondo lavorativo non ti guarda in faccia se tu servi all'azienda l'azienda ti tiene se tu porti i soldi all'azienda l'azienda ti tiene è meritocratico infatti l'altra cosa è che secondo me la parola meritocrazia oggi la usiamo solo in termini positivi ma in questo caso la grande meritocrazia che è nata nel mondo anche grazie al web per cui se sei bravo emergi ha un effetto collaterale che è se non sei bravo sei un fallito ed è colpa tua ok questo rende tutto molto più complesso e chi rimane indietro ha molta più responsabilità sulle sue spalle anche molta meno probabilità di puntare il dito e dire è colpa sua è colpa è colpa tua la società è diventata molto meritocratica oggi se tu non riesci a emergere guarda guarda te tu sei emerso con le tue forze hai tirato su uno show sei stato molto ah io non ho detto però io ti seguo da una vita te l'avevo detto prima lo voglio specificare che sono un tuo fan perché ci tengo tanto io seguo tutto il tuo percorso tu cosa hai fatto sei il classico esempio di una persona che con le sue forze è riuscita a mettere su un qualcosa che poi è diventato il suo lavoro e che quindi è da una parte qualcuno da ammirare dall'altro è qualcuno che inevitabilmente ti mette ansia perché dici lui è riuscito a fare qualcosa di così grande e io non riesco a fare niente questo potrebbe alimentare in parte queste dinamiche del chi è più bravo avanti emerge diventa forte e chi invece non riesce crolla poi sono d'accordo sul fatto che molto spesso è una scusa nel senso che infatti stavo arrivando lì eh lo so però come fai a spiegarlo a un ragazzo di 14 anni questo me lo devi dire tu no io non lo so ma perché il discorso che io faccio spesso se tu poi mi segui da tanto lo saprai il punto centrale di tutto il mio messaggio è sempre la responsabilità cioè l'assunzione di responsabilità perché io penso che sia quello empowering non so come si dice in italiano forse non c'è il termine che ti permette ti dà forza il fatto di dire è tutto nelle mie mani e quindi questa cosa mi può schiacciare potenzialmente è quello che schiacciava me dicevo io potrei fare qualsiasi cosa non sto facendo niente bravo ma credo che ancora più dannoso di quell'atteggiamento che è un po' un sottoprodotto più che un atteggiamento sia quello di dare la colpa agli altri cioè colpa della società è colpa degli insegnanti magari è anche vero magari è anche vero però a quel punto questo vale anche per gli adulti vale per tutto per quanto mi riguarda nel momento nel quale tu ti togli la responsabilità come dicevi tu gli insegnanti che dicono no 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 noi non sentiamo niente non puoi più fare nulla perché se se il problema è altrove tu non puoi agire altrove e allora vabbè allora tiro e rimbarca esattamente questo è il punto è forse la caratteristica psicologica più negativa dell'ikikomori la passività in psicologia viene definito locus of control interno e esterno quando hai un locus of control interno vuol dire che hai la percezione di aver controllo sulla tua vita quindi anche illusoria in parte assolutamente sappiamo che ci sono tante variabili che noi ci illudiamo di controllare ma non controlliamo però una persona che ha un locus of control interno ha un benessere psicologico mediamente molto più alto perché perché riconosce un impatto delle proprie azioni del proprio vissuto sulla vita e quindi ha la sensazione di essere padrone della sua vita chi invece è passivo quindi ha un locus of control esterno pensa che tutto sia dettato dal caso quindi qualunque cosa lui faccia in qualche modo è passivo la subisce o non è responsabilità sua o non può far niente per migliorare la sua vita ed evidente che questa è un po' la condizione degli ikikomori ma il punto è una volta che abbiamo capito qual è la difficoltà degli ikikomori cosa facciamo comunque li dobbiamo aiutare al di là del fatto che sono persone più fragili più assolutamente certo rimane il problema rimane che ci sono queste persone non possiamo girare la testa dall'altra parte perché è una condizione molto sofferente e quindi dobbiamo cercare di aiutarle come? attraverso ovviamente la psicologia attraverso la terapia attraverso le comunità che io spero nasceranno in tutta Italia uno dei miei sogni è creare degli spazi in tutta Italia stiamo già incominciando a progettarne qualcuno dove queste persone possono andare trovare magari un educatore uno psicologo che li attende e creare degli spazi protetti molti diranno ma ancora protetti cioè questi ragazzi hanno bisogno di svezzarsi hanno bisogno secondo me però di farlo gradualmente quindi io sono convinto che per risolvere l'ikikomori e in Giappone già lo stanno facendo con diverse comunità serva uno spazio di transizione cioè l'ikikomori che dopo x anni dice io voglio uscire non ce la faccio più non lo puoi buttare nel mondo non lo puoi buttare nella società ma questo non si troverà un lavoro manco se lui paga il datore di lavoro non lo troverà mai e soprattutto sarà in una condizione psicosociale devastante tu cosa devi fare? devi creare uno spazio di transizione che è uno spazio protetto tra la camera da letto e la società ipercompetitiva iperpressante in questo spazio che potremmo definire una palestra tu devi riabituare il ragazzo alla competizione ma in modo graduale non puoi gettare addosso un lavoro e dirgli vai ma appunto lo riabitui magari togliendolo anche da un ambiente famiglia che a volte lo dico a volte hanno gli strumenti culturali le famiglie per fare un cambiamento e diventare positive per i ragazzi io sono in contatto con famiglie fantastiche ma ci sono delle famiglie dei gintori che non cambieranno mai e che non hanno gli strumenti culturali per fare questo step probabilmente neanche per venire a cercare neanche per venire a cercare quindi a volte tu quel ragazzo lo devi togliere dalla famiglia perché se no finché sta lì non cambierà mai mai puoi mandargli a casa educatori psicologi psichiatri non cambierà mai quindi servono per forza questi spazi dove tu lo puoi togliere rieducare alla socialità all'indipendenza e poi sperare di rimetterlo nella società quindi con un lavoretto part time puoi magari un lavoro a tempo più indeterminato fagli capire quali sono le sue predisposizioni le sue passioni se tu non crei questo spazio il salto è troppo alto e quindi i casi più longevi non usciranno mai invece per quelli più giovani c'è il discorso della scuola che lì puoi magari aiutare a frequentare la lezione nonostante come si sta facendo adesso col virus nonostante non ci sia che non posso nominare perché sennò ti demonetizzano non ti preoccupare ho detto virus come stanno facendo adesso con la scuola a distanza molti di Kikomori chiedono tramite i genitori di poter andare avanti a studiare perché loro vogliono andare avanti a studiare ma non riescono a farlo e spesso la scuola si trincera dietro il fatto che non c'è una diagnosi medica cosa che non è vera la scuola può fare un percorso personalizzato anche in assenza di diagnosi medica questo lo dico se ci fossero degli insegnanti all'ascolto però appunto quello che succede è che spesso a volte la scuola abbandona questi ragazzi quindi non viene qua pazienza non è mia colpa o me lo porti qua o io lo devo gocciare e questo è il male perché se tu aiuti invece la persona ad andare avanti a studiare magari con metodi alternativi le learning le interrogazioni al di fuori dell'orario scolastico eccetera è molto più probabile che lui l'anno successivo si riscriva magari in un altro istituto e continui il suo percorso scolastico se tu lo bocci nel 90% dei casi questo non si riscriverà più a scuola e lo perdi quindi se non c'è flessibilità da parte della scuola c'è un problema se neanche la scuola che dovrebbe essere il sistema inclusivo perché appunto pubblico e perché appunto in fase ancora embrionale della persona non assiste la persona non ci possiamo aspettare che lo faccia il lavoro il lavoro è competizioni il lavoro è tu sei bravo mi porti soldi ti tengo tu non sei bravo non mi porti soldi a casa hai 10 lauree 20 lauree ma se non mi porti soldi all'azienda sei a casa questo è come dire la logica da una parte bella molto meritocratica dall'altra molto crudele ok parlando di scuola peraltro tu hai spesso toccato dei punti peraltro c'era proprio una domanda però li hai già toccati da solo ho visto benissimo perché Marco Bertutti chiedeva ha visto l'ho visto anch'io sul vostro sito di 5 riforme dell'istruzione che tu hai presentato per ridurre l'abbandono scolastico è un argomento che io tratto sempre l'abbandono scolastico perché la mia terra è falcidiata dall'abbandono scolastico soprattutto non la zona di Cagliari ma tutto il resto l'interno soprattutto che secondo me è un problema enorme perché a prescindere da fenomeni di chiccomori eccetera non impari niente non esci neanche da scuola nel senso che non ci vai smetti di andarci fondamentalmente verso medie superiori molti mollano e spesso poi non hai delle skill che servono a nessuno e quindi si ritorna lì sulla questione dell'utilità e della competitività ho visto che tra i vari punti tu hai già citato ad esempio insegnare le life skills l'educazione al centro queste cose che hai già detto ridurre la standardizzazione c'è addirittura quello di eliminare i voti sì è il più controverso ok sì no certo questo è il posto dove parlare delle cose più più complicate di come di così ma ti vorrei chiedere questo nel parlarne riusciamo a dargli un aspetto di realismo ora non per offenderti ma no no guarda tu ne parli in modo diciamo utopico sì utopico vorrei dire una cosa su questo perché molti lo dicono ci sono dei sistemi al mondo che già lo fanno cioè non è che sono io un pazzo che un giorno è venuto e ha detto togliamo i voti in Finlandia che è uno dei sistemi più avanzati del mondo lo fanno e funziona funziona bene nel senso che si può fare meno dei voti so che per noi è inconcepibile ma il voto non è assolutamente determinante non è inconcepibile è molto complicato cambiare così tanto la struttura della scuola che in modo che si abbandonino i voti che si inizia a insegnare videomaking come fai? la scuola è lenta a cambiare infatti io l'ho detto non so se l'ho detto in quel video ma sicuramente l'ho detto io sono convinto che queste cose ovviamente sono i punti di arrivo poi si possono cercare di fare piano ma il problema è che non le possiamo far piano perché la scuola sta avendo un abbandono scolastico in aumento l'Italia è tra le peggiori d'Europa ed è in aumento l'abbandono scolastico e sono convinto che aumenterà purtroppo quindi cosa succederà nei prossimi anni? si rafforzerà il settore privato si rafforzeranno le scuole non pubbliche stanno nascendo in Italia tante scuole per chi non va a scuola io ho parlato alcuni di questi progetti che sono scuole diverse funzionano in modo diverso funzionano molto similmente a quello che ho detto io in questo articolo in questo video e funzionano bene funzionano bene perché non è tipo quelle robe delle scuole private che poi fai l'esame in un'altra città è una roba tre anni in uno c'è niente contro chi la fa carità però sappiamo che sono una prima non è quella così sono cose completamente diverse e sono molto più centrate sull'educazione piuttosto che sul dare delle competenze tecniche per il lavoro uno direbbe in questo momento ma scusami tu ma tu vuoi creare persone ignoranti cioè togliere i voti quindi diminuire la competizione poi cosa facciamo ci troviamo con persone meno preparate ed è vero sono in parte d'accordo il problema qual è? dobbiamo metterci d'accordo su qual è il fine dell'educazione scolastica se il fine è dobbiamo creare le persone migliori possibili dal punto di vista competitivo allora va benissimo in questo sistema anzi mettiamoci più competizione tiriamo fuori solo i migliori solo i migliori vanno avanti diventano bravissimi diventano i nuovi Zuckerberg i nuovi Jeff Bezos diventano bravissimi ma se invece vogliamo tenere dentro tutti non possiamo tenere l'asticella da pressione così alta in modo che emergano solo i più forti dobbiamo cercare di quantomeno diversificare la pressione cercare di metterne su alcuni che sono più bravi sono in grado di reggerla tanta e chi magari è più debole se non lo vogliamo distruggere cercare di abbassare questa pressione questo ha dei contro ovvio tutte le cose hanno dei contro io penso che la scuola dovrebbe andare più in questa direzione però ripeto dipende qual è il fine di una nazione dipende qual è il fine di una società dipende cosa vogliamo fare se vogliamo lasciare indietro queste persone e creare appunto un'asticella tra chi ce la fa e chi non ce la fa questa è la soluzione come dire quello che succederà gli kikomori aumenteranno arriveranno probabilmente a toccare dei numeri non dico simili a quelli di Giappone ma sicuramente molto più alti l'età media aumenterà perché oggi l'età media è intorno ai 20 anni degli kikomori italiani anche questo è un dato interno all'associazione abbastanza bassa ma come detto in Giappone l'età media è molto più alta perché non perché si tende a isolarsi più tardi ma perché si tende a cronicizzarsi e quindi chi oggi ha 20 anni se non facciamo niente domani è una 30 non è che cambia questa questione la scuola è un tema centrale poi io ho buttato lì anche dei temi molto forti sono d'accordo dire togliere i voti non è che si può fare da un giorno all'altro però se ci sono sistemi che lo fanno e che lo fanno con successo riducendo l'abbandono scolastico introducendo comunque delle competenze perché togliere i voti non significa meno studio magari significa meno studio memorico ma significa magari più apprendimento perché tu usi degli strumenti diversi di apprendimento per esempio una cosa interessante che si fa in Finlandia è non fare delle domande agli studenti ma chiedere agli studenti di fare delle domande tu da come uno fa la domanda capisci tantissimo di quanto quella persona è preparata perché se uno ti fa una domanda stupida sull'argomento che dovrebbe aver studiato tu automaticamente capisci che quella cosa non l'ha capita se invece va a farti una domanda più come dire sottile più che già da per scontato delle competenze lì tu puoi capire tanto sulla preparazione di uno studente e poi non è che non ci sono voti non è che non c'è una restituzione semplicemente non è più numerica non è più un 4 6 8 è un più qualitativa è una restituzione più qualitativa più ti do un feedback sulla tua preparazione su quello che io penso sia il tuo percorso ed è un feedback più argomentato è un feedback del tipo guarda che secondo me stai studiando poco questa cosa non hai capito questa eccetera questa è una restituzione che comunque ha senso ma non è un numero che poi diventa una bollatura su una persona attenzione i numeri diventano davvero qualcosa che possono distruggere l'identità di una persona e l'autostima di una persona per cui magari tu hai preso dei brutti vuoti a scuola ti convinci di essere stupido di non avere qualità e la tua autostima viene automaticamente a distruggersi in una fase della vita ripeto in cui non sei un adulto quindi sei fragile da quel punto di vista dobbiamo sempre fare un distinguo ok credo che il discorso di sperare o ipotizzare che siano i privati a prendere il controllo di questa cosa mi sembra più plausibile che immaginare la scuola italiana che è molto molto lenta no no ma è il problema del privato che costerà di più costerà di più e poi c'è sempre il discorso se effettivamente funzionerà o se sarà un modoc per fare temo che dovrà non voglio parlare con le scuole parificate però oggi la scuola privata è quella cosa lì è quella tra anni in uno però temo che lo dico nel senso con dispiacere perché io riconosco il valore della scuola pubblica temo che se la scuola non sarà in grado di andare incontro a questa esigenza di una parte degli studenti ma sempre maggioritaria perché sta aumentando temo che serviranno delle scuole alternative ma attenzione non solo per gli chico mori anche per chi abbandona per altri motivi il classico abbandono scolastico non ha voglia anche per quello può servire una scuola diversa con un approccio educativo diverso il problema è che molto dell'abbandono scolastico non parlo degli chico mori perché quello non lo so però in generale viene dalle famiglie più fragili non viene dalle famiglie più ricche sta cambiando il trend sta cambiando il trend stanno aumentando tantissimo i ritirati scolastici a causa della timidezza dell'introversione quello è un altro aspetto e delle famiglie benestanti perché una cosa che abbiamo detto l'ichico mori è molto legato alle famiglie benestanti altamente istruite avere i genitori istruiti ovviamente è un fattore di pressione aggiuntivo anche tu devi raggiungerli certo se tu hai due genitori medici cioè se non diventi medico automaticamente hai fallito però diventare medico non è così facile per esempio in generale si è visto sia in Giappone che in Italia queste sono cose che ritornano che è un problema legato anche appunto a famiglie scolarizzate a famiglie con un alto livello di realizzazione sociale dei due genitori e che quindi questo si tramuta in pressione ok siccome a te non piacciono le etichette posso tranquillamente chiederti se io o te potremmo diventare un'ichico mori tra cinque anni lo escludo perché abbiamo superato forse la fase più complessa lo saremmo potuti diventare questo sicuramente sia io che te no no io parlo proprio di diventare un'ichico mori a 40 anni è possibile? allora questo è un discorso interessante perché ci sono casi in Giappone di over 40 che diventano un'ichico mori sono soprattutto legati per esempio alla perdita del lavoro se tu sei una persona già isolata perché poi di fianco di chico mori c'è tutto un tema di solitudine di disgregazione dei rapporti sociali Giappone ha un sacco di problemi per esempio di morti solitarie persone che muoiono e vengono scoperte mesi dopo perché non ci sono più parenti e amici che sanno che quella persona era lì e quindi aumentano questo tipo di fenomeni legati alla solitudine alla divisione delle persone Giappone ovviamente ha numeri più alti perché ci sono tutta una serie di dinamiche legate alla pressione alla cultura che favoriscono questo fenomeno questo lo vedo difficile in Italia però dove comunque la presenza della famiglia allargata esiste in un modo o nell'altro certo non è come negli anni 50 però esiste ancora in parte allora la famiglia italiana in parte è un fattore protettivo da questo punto di vista e in parte credo sia un fattore peggiorativo perché in Italia per esempio si esce di casa molto tardi anche per una questione familiare non solo come dicono tutti per una questione non ho i soldi non è solo quello è anche per un mood di rimanere più in famiglia questo è un fattore ovviamente peggiorativo per la propria indipendenza quindi diciamo che anche in Italia ci sono dei fattori che possono essere peggiorativi però in Giappone come dire il numero è impressionante lì il fenomeno ha numeri che non esistono nel resto del mondo quindi ci sono delle dinamiche molto particolari che lo favoriscono quindi la domanda era si può diventare di che come lì a 40 anni? ecco lì magari qualcuno perde il lavoro è già tendenzialmente solitario si isola anche per questa dinamica secondo me bisogna distinguere però perché un conto è l'isolamento traumatico e depressivo un conto è l'ichikomori secondo me l'ichikomori deve avere queste due caratteristiche almeno dalla mia punto di vista il fatto che il tuo isolamento si è determinato dalla paura del giudizio dalla paura di essere in qualche modo giudicato per i tuoi fallimenti e da una visione negativa nei confronti della società quindi dal fatto che tu ritieni la società un posto non accogliente in cui tu non ambisci a essere parte se ci sono questi due due fattori motivazionali che quindi non sono oggettivi anche per questo non è facile da identificare un'ichikomori perché non puoi dire sei isolato da x mesi allora sei un'ichikomori per me questo discorso non ha senso perché allora cosa vuol dire uno che ti arriva e dice io sono isolato da tre mesi e dici no torna tra sei che poi sei un'ichikomori che senso ha ma se devo trovare dei fattori dei criteri sono questi qua più motivazionali che quindi possono essere capiti solo in un colloquio approfondito questi fattori secondo me determinano il fenomeno poi ci sono tutti una serie di fenomeni che vanno ad accostarsi l'ichikomori la depressione il fatto che magari appunto ci sia una solitudine maggiore quindi non so un anziano che non ha più contatti perché non ha più familiari e tende a rimanere da solo è un'ichikomori no secondo me è semplicemente un tema più di solitudine di segregazione dei contatti sociali non è una persona che ha paura del giudizio non esce perché ha paura che viene giudicato o perché vede la società come negativa è semplicemente rimasto solo beh però ad esempio se io fossi un quarantenne che ha appena perso il lavoro oppure non l'ha appena perso ma magari l'ha perso da 5-6 anni non faccio fatica a trovarlo vivo una situazione di non indipendenza economica perché a un certo punto non c'ho più neanche la disoccupazione non c'ho più niente quindi arranco diciamo e questo questo arrancare inizia a farmi isolare non vedo più gli amici perché magari vedo che gli amici hanno le loro vite eccetera io no bravo questo può essere una dinamica riconducibile all'ikikomorsi quindi si può in un certo senso certo che sì il problema qual è cioè la differenza qual è che tu in teoria in quell'età dovresti essere più resiliente quindi è molto più difficile che tu è più difficile sviluppi questo tipo di pensieri negativi dopo che hai fatto tante esperienze che ti hanno formato ti hanno plasmato ma è possibile assolutamente ci sono dei casi la stragrande maggioranza inizia invece nella fase adolescenziale che è la fase appunto per diverse dinamiche psicologiche più predisposta a questo tipo di negatività a questo tipo di visione anche eccessivamente pessimistica perché poi tutti sappiamo che la società è brutta nel senso ha tante cose negative però quando questa cosa diventa polarizzata questo pensiero diventa talmente estremo che poi tutti i problemi diciamo anche le patologie mentali sono di fatto degli estremismi di comportamenti che potremmo definire normali l'ichicomori non fa differenza una persona tendenzialmente solitaria che gli piace stare da sola che non esce che sta bene così non è unichicomori è una persona con quel tipo di predisposizione se questa predisposizione diventa estrema quindi si polarizza a causa di tutte le dinamiche che abbiamo detto lì secondo me inizia a essere un problema riconducibile l'ichicomori ma lo dico non voglio tirare una linea netta a me non interessa tirare una linea netta non mi serve da un punto di vista pratico forse servirà dal punto di vista giuridico burocratico ma a me come persona a me non interessa senti pensi che questa è una domanda che un po' esce dal tuo ambito ma neanche tantissimo perché vedo che tu comunque tendi a parlare anche di società e quindi dei veri aspetti che la compongono sì io ho spazio io uso l'ichicomori come anche anello di congiunzione tra vari temi poi non voglio passare tutta la vita a parlare solo di l'ichicomori facciamolo le misure di welfare dei paesi sviluppati molto sviluppati favoriscono questo fenomeno qua perché io mi sto immaginando appunto ritornando a quell'esempio il quarantenne che è a un certo punto va in crisi proprio perché deve per forza fare qualcosa se non muore se c'è un sistema come il reddito di cittadinanza per dire capito che stavo andando di data mezz'ora stavo girando attorno come un falco lo può far stare a casa potenzialmente all'infinito pensi che questa cosa possa essere peggiorativa del fenomeno o di un fenomeno simile di isolamento o no allora penso di sì anche se c'è da dire una cosa che l'ichicomori medio quindi quasi tutti non vivono bene la propria condizione quindi non è che sono il classico figlio di papà perché poi c'è anche il fenomeno dei neat che sicuramente conoscerai che si sposa un po' con io credo che l'ichicomori sia un po' una sottocategoria dei neat perché non studiano non lavorano ma a differenza dei neat non hanno contatti sociali i neat possono essere benissimo figli di papà che non hanno bisogno di lavorare o anche non figli di papà ma comunque persone che hanno questa opzione per vari motivi e che quindi la usano hanno la ragazza escono con gli amici hanno una vita sociale normale ma sono inattivi dal punto di vista sociale l'ichicomori secondo me non è così cioè non è un inattivo dal punto di vista sociale perché non ha voglia o comunque la componente motivazionale è secondaria anche a una difficoltà intrinseca io credo che ma questa cosa non è peggiorativa scusa se ti interrotto sì è peggiorativa soprattutto secondo me su un neat ma sull'ichicomori secondo me varia poco perché sia che tu glielo dai sia che tu non glielo dai non riesce a uscire quindi se tu non glielo dai ipotizziamo che ci sia unichicomori gli muoiono i genitori e lui non è mai stato in grado di mantenersi e rimane senza un reddito cosa può succedere? ipotizziamo prima soluzione questo deve mangiare quindi a un certo punto uscirà di casa come uno zombie come capita per esempio nell'anime non voglio spoilerare ho spoilerato vabbè più o meno non è il finale però capita che come dire un ragazzo rimanga a casa da solo e per mangiare esca come uno zombie non so si mette a fare le limosina si trova in lavoro c'è anche un'intervista che ho fatto a un ragazzo che aveva avuto una dinamica simile a questa per cui a un certo punto i suoi genitori si sono trasferiti e lui non se ne è neanche accorto e a un certo punto ha chiamato il padre e gli fa ma dove sei finito? eh mi sono trasferito perché non ce la facevo più per stare in questa condizione wow e lui ha finito il cibo ha razionato il cibo e a un certo punto l'ha finito come un naufrago caso vuole che sua zia aveva distribuito dei curriculum nel paese lui viveva in un paesino e in quel momento un cinema lo chiama per far da maschera strappare i biglietti o comunque lavorare all'interno del cinema e lui dice sì in quel momento e da lì riesce a riprendere un po' di indipendenza vive da solo riesce ad avere un pochettino di soldi due giorni a settimana quindi si compra il cibo ok ha funzionato ma possiamo estenderlo a tutti cioè cosa come fai a sapere come un ragazzo reagisce? ipotizziamo che tu lasci a casa un ragazzo da solo no? questo chi ti dice che non si fa del male? chi ti dice che non rimane lì fino allo sfinimento? aspetta però questo stesso ragazzo con un adesso io non voglio sembra che sto parlando contro il welfare in realtà sono a favore però mi sto interrogando se avessi avuto dei soldi di continuo dallo stato o da qualcun altro magari non sarebbe mai uscito da quella situazione? può darsi può darsi che ci sia una dinamica in qualche modo incentivante io credo però che davvero sull'ikikomori questa cosa sia secondaria perché il problema di non uscire è proprio a monte loro non riescono a uscire punto poi il fatto che successivamente si possano innescare delle dinamiche che li aiutano quello secondo me è un discorso appunto successivo che riguarda più i neat non so può darsi che qualcuno poi lo sfrutti ma non è una bella vita è quello che voglio dire no ma per carità mi interrogavo soltanto su gli aspetti sociali perché poi di nuovo questo tipo di di ammortizzatori sociali che sono importanti sono nel nel primo mondo chiamiamolo così in altri luoghi non ci sono certo assolutamente infatti questo secondo me può diventare un problema il Giappone non può per quanto il Giappone sia ricco sostenere un milione di nativi ovviamente non può è una intera generazione che non è in grado di lavorare questo io lo dico sempre deve far riflettere sulla direzione che stiamo prendendo come mondo dici come mondo occidentale qual è la nostra principale preoccupazione a livello politico la crescita certo il Giappone l'ha fatto per anni il Giappone è cresciuto in modo esponenziale il Giappone è ricchissimo pensa che la disoccupazione giovanile in Giappone è pari al 5% in Italia siamo intorno al 30 o al 40 quindi uno potrebbe dire ma in Italia si generano i kikomori perché non c'è lavoro eh no perché in Giappone sono un milione e il lavoro c'è quindi non è quello il problema in Giappone sono ricchissime anche le famiglie il reddito pro capito è alto non ci sono problemi di povertà è basso il problema di povertà di criminalità qual è il problema è che quella direzione dell'iper benessere non è per forza la direzione più positiva dal punto di vista del benessere psicologico il Giappone non è solo il paese col più alto numero di kikomori è anche il paese col più alto numero di suicidi di morti per super lavoro qualcuno dirà che ci guarda dirà eh ma il Giappone ha delle dinamiche sociali che favoriscono tutto questo sì ma in parte queste dinamiche ci sono anche da noi e sono quelle legate alla pressione poi non ce ne sono altre magari di dinamiche e per questo che noi abbiamo meno i kikomori ma la direzione è quella di andare su una società ipercompetitiva dove il livello di evoluzione è proporzionale alla competizione che tu riesci a mettere nella popolazione e quindi a tirare fuori il meglio possibile dai suoi cittadini secondo me questa è una mia opinione ovviamente non è tutto un dato di fatto si ne può discutere secondo me dovremmo rivalutare come società qual è il nostro fine se è lo sviluppo economico o la soddisfazione psicologica dei cittadini questa cosa secondo me il Giappone ci spiega che non è così immediata cioè che non è che se tutti sono ricchi in una nazione automaticamente sono tutti felici perfetto questo secondo me è un campanello l'ikikomori è un campanello un monito che ci dice siamo sicuri che quella è la direzione che vogliamo prendere che vogliamo diventare come il Giappone super evoluti super tecnologici super appunto completi da tutti i punti di vista ma con un sacco di problemi sociali forse dovremmo cercare di ribilanciare un po' i nostri interessi che non significa distruggiamo l'economia e viviamo in povertà significa ribilanciare un po' anche relativamente al tema scuola quali sono le nostre priorità se la super competizione o il cercare di creare una società più inclusiva possibile io temo che le due cose non siano completamente compatibili ok cioè ti devo chiederti un'altra cosa sono terrorizzato da aprire questo argomento perché sono troppo lungo no sono terrorizzato per l'argomento in sé partiamo con una domanda secca perché la maggior parte degli ikikomori sono maschi se ne voglio dire una di motivazione è il mega tema delle pressioni sociali legate al sesso il sesso non è percepito in questa società non ha lo stesso peso non ha la stessa dinamica per uomini e per donne in base al tuo ruolo di genere tu avrai pressioni sessuali diverse pressioni sessuali descrivimi cosa significa pressioni sessuali dimmi tu quanto posso andare nel dettaglio pressioni sessuali un ragazzo oggi deve allora aspetta riformulo lo status sociale il livello di realizzazione personale di una persona mi sono ripetuto è anche parametrato in base alla propria forza sessuale cosa significa la propria capacità di attirare partner la propria capacità di essere percepito come un partner sessualmente interessante dal punto di vista femminile questa cosa condiziona lo status sociale molto più degli uomini che per le donne perché perché i due ruoli di genere creano un'alterazione delle dinamiche legate al mercato del sesso passami il termine è un po' brutto cosa vuol dire che l'uomo oggi sembra ossessionato dal sesso e la donna ha tantissima richiesta e ha una grande possibilità di selezione perché c'ha tanti uomini che le si offrono e lei può scegliere bene o male questa è una dinamica abbastanza media poi ci sono ovviamente gli uomini più belli che hanno tanta richiesta e le ragazze magari meno belle meno belle intendo dal punto di vista fisico e mentale non parlo solo di bellezza fisica però cosa succede che questa alterazione ha creato un problema che ci sono tanti ragazzi che fanno proprio fatica a rendersi attraenti perché le ragazze hanno tanta offerta quindi hanno più potere di selezione e la selezione impone la scelta migliore certo dunque se tu per diversi motivi caratteriali in particolare a mio modo di vedere in parte fisici non riesci a essere attraente ne risentirà anche la tua realizzazione sociale cosa significa in altri termini ti sentirai uno sfigato cioè è un'autovalutazione è un'autovalutazione è una valutazione in parte che ti viene data anche come feedback dalle persone perché è tutto un po' valutato in base anche a come tu ti senti percepito dagli altri e quindi ti costruisci la tua immagine di te la tua identità dipende da come tu pensi che gli altri ti percepiscano quindi poi è un tuo pensiero ovviamente quindi tu puoi interpretare gli altri sempre in modo negativo chiunque mi guarda pensi che io sia brutto pensa che io sia brutto invece sono una bellissima ragazza cosa che capita spesso certo ma quindi per capire prima di farti andare avanti significa che un uomo sessualmente appetibile non so bene come chiamarlo si rende conto di esserlo perché gli altri lo notano e quindi glielo fanno notare cioè sei un vincente perché sei un figo ha maggiori feedback positivi da parte del partner dei partner degli altri più accettato più apprezzato pensa per esempio al concetto di verginità nella società moderna quanto è uno stigma oggi la verginità cioè se tu sei vergine oggi a un'età avanzata mettiamo così non nell'età in cui dovresti ancora esserlo quanto ti fa star male questa cosa e quanto ti vergogneresti a dirlo a qualcuno non lo so non ne ho la minima idea mediamente gli uomini molto più che le donne ok perché ripeto per l'uomo l'essere vergine è molto più come una condizione vissuta sulla sua sconfitta sei vergine perché sei sfigato tu perché sei tu che non riesci ad attrarre partner sulla donna mediamente è un po' più parlo dal punto di vista sociale non voglio generalizzare però mi sembrano dinamiche sociali abbastanza dal mio osservatorio rilevanti sulla donna la verginità è più vissuta come una scelta la donna decide di aspettare a concedersi questa cosa siamo sicuri che sia vero questo però una donna quarantenne che dice ho aspettato sino adesso io parlo di secondo me di percezione sociale poi ripeto mia opinione io vedo che tra le pressioni sociali cioè tra le cose che i komori valutano come più negative rispetto a quelli che gli altri pensano di loro c'è questa sensazione di non essere proprio in grado di attrarre un partner tutto un altro fenomeno che io ho iniziato a trattare che ho conosciuto grazie al fenomeno degli kikomori che è quello degli incel non so se l'hai mai sentito nominare sì certo gli incel sono anche in questo caso una parte di persone che si trovano a causa di dinamiche sociali alterate dal tempo alterate non significa positive o negative io quando parlo di queste cose molte persone pensano che io stia dando un giudizio cioè sto dicendo che le donne sono brutte gli uomini sono non è un giudizio io riconosco queste dinamiche sociali e cerco di capire a che fenomeni portano gli incel cioè gli involuntary celibates che non capito la parte sono generalmente maschi etoresessuali che diventano a volte misogini anche ma particolarmente negativi nei confronti dell'altro sesso ma in generale sono maschi che non riescono ad avere rapporti perché sono maschi perché ovviamente c'è un'alterazione di queste dinamiche per cui l'uomo ha meno richieste dal punto di vista sessuale queste dinamiche sessuali che aprono un altro capitolo rientrano secondo me anche negli kikomori perché rientrano all'interno del novero di quelle pressioni sociali che si legano alla realizzazione personale quindi io non ho una ragazza vedo sui social i miei amici che hanno sempre foto con ragazze mi sento uno sfigato perché io non riesco ad avere una ragazza questo è una pressione di fallimento sociale come può essere un lavoro come può essere il fatto di non avere amici il fatto di non uscire sabato sera tutte queste cose si legano ma le pressioni sessuali sono particolarmente forti anche perché sono diverse per il ruolo di genere ci sono pressioni per esempio l'uomo per il suo ruolo di genere è più invogliato ad avere relazioni sessuali anche se biologicamente questo non è vero che l'uomo è più invogliato ad avere sesso quindi si pensa che l'uomo sia ossessionato dal sesso perché è una cosa biologica no è molto una spinta sociale le donne si pensa a volte che siano meno invogliate al sesso per una questione biologica ma è anche tanto dal punto di vista sociale cioè le donne hanno un ruolo di genere che le disincentiva un po' dall'avere tanti partner sì certo per farlo semplice un uomo che ha tante partner è figo una donna che ha tante partner è una facile questo è una dinamica sociale che crea una disparità che poi mette anche pressione relativamente a un ruolo di genere attenzione non significa che gli uomini siano messi peggio significa che sono pressioni diverse per esempio sulle donne le pressioni sono soprattutto sul corpo l'anoressia e la bulimia sono in grande aumento e non è un caso che tante ragazze che si isolano hanno spesso anche dei disturbi alimentari quindi hanno un vissuto di anoressia e bulimia perché sulla donna le pressioni sul corpo sono aumentate esponenzialmente se tu usi Instagram e lo usi vedi che il corpo della donna su Instagram è mitizzato cioè è pieno zeppo di ragazze bellissime perfette quindi se tu sei anche dell'uomo in realtà ormai molto meno però molto meno certamente molto meno tutte queste cose sono vere per entrambe le parti però ci sono ancora probabilmente degli squilibri però quanto è più o meno mi sai dire una percentuale uomo-donna sul numero di Kikomori allora secondo le indagini statistiche che ho fatto sull'associazione il 90% sono uomini sono uomini il 90% non può essere solo una questione allora di aspetta però secondo me è un dato sbagliato perché secondo me le donne sono sottostimate ti spiego anche perché perché secondo me culturalmente la donna è ancora più centrata a casa e quindi deve raggiungere un livello di isolamento sociale tendenzialmente più alto per generare allarme nella famiglia significa significa che mi arrivano più tardi le ragazze che portano questo vissuto di isolamento sociale perché tu immagina di avere una figlia adolescente se non va a scuola non va a scuola no ok ma attenzione quando non va a scuola scatta per tutti il problema quindi tu dici che è prima no prima ma c'è tantissimi segnali ma mia figlia non esce però non è un problema per me il non andare a scuola è già un livello avanzato perché se tu arrivi ad abbandonare la scuola vuol dire che già sei in una condizione di sofferenza psicologica enorme tu i segnali li hai già prima ovviamente sono più sfumati ovviamente devi avere un rapporto con tuo figlio molto più profondo per capirli e lì vengono molto sottovalutate le ragazze poi quando ovviamente abbandonano la scuola tutti i genitori impazziscono quindi non è una questione di te ne accordi se tua figlia si chiude nell'armadio però se magari non esce la sera lo percepisci come un problema meno importante o come un non problema rispetto al figlio che non esce la sera purtroppo a livello culturale sì però detto questo sia in Giappone che in Italia sono più maschi perché anche in Giappone il numero di maschi è superiore al 70% e questo dato è solo secondo te l'unica differenza è questa qui? no ce ne sono tante ho scritto anche un articolo sul sito precedente all'ultimo sulla scuola che va proprio a analizzare il perché sono soprattutto maschi queste sessuali secondo me sono importanti poi in generale è legata sempre al ruolo di genere perché le differenze sono legate alle aspettative sociali che tu hai in base a se sei donna o uomo il ruolo di genere è quello quindi non c'entra niente il sesso biologico non c'entra il fatto che tu sia uomo o donna perché essendo un fenomeno sociale è tutta una questione dinamica sociale sì quindi se tu sei percepito come uomo la gente si aspetta che tu faccia dei comportamenti in quanto tu uomo stessa cosa donna sugli uomini l'importanza sociale del gruppo della relazione è mediamente più alta che sulle donne c'è anche un termine inglese male banding che significa proprio in psicologia sociale la tendenza dell'uomo a dover fare dei gruppi delle congreghe delle situazioni sociali molto più delle donne e che queste offrono a lui ha una sensazione di maggiore forza sociale quindi un uomo mediamente più isolato socialmente oggi ha ancora più pressioni rispetto alla donna poi un altro fattore sono tutti i cofattori che si alimentano tra di loro è mediamente sempre a livello culturale non a caso che il Giappone e l'Italia sono due culture molto che rimangono legate al patriarcato in parte quindi con una ruoli di genere ancora un po' sbilanciati dove il padre per esempio in Giappone va sempre a lavorare perché deve mantenere la famiglia e quindi il padre nei Ikikomori giapponesi è una figura molto assente la madre invece molto presente quindi si crea questo squilibrio madre figlio legame simbiotico che avevi già citato legame con la madre invece padre assente figura repressiva a livello emotivo figura appunto che è più legata a un'educazione antica è però meno in grado di instaurare una relazione col figlio quindi sono tutte dinamiche che si accelerano un'altra dinamica legata a questa come dire potremmo definirla visione patriarcale della società è che l'uomo ha molte più pressioni legate alla carriera lavorativa perché si presuppone che l'uomo debba raggiungere livelli di carriera lavorativa più alti portare i soldi sulla donna c'è ancora più culturalmente lo stigma della madre un giorno diventerei madre un giorno quindi questo quindi anche se non ti realizzi professionalmente anche se è brutto la società mette meno pressione su di te secondo me questa è un'altra concausa che rende il fenomeno degli chikomori più spostato sui maschi però ripeto queste da sole non giustificano questa sproporzione io credo e sono abbastanza convinto di questo che l'aspetto sessuale sia quello più predominante tra i vari squilibri detto che io spero che con il progressivo miglioramento o come dire appianamento delle differenze dei ruoli di genere si spera che si vada in questa direzione il fenomeno degli chikomori inevitabilmente non essendo dovuto a dinamiche biologiche andrà a parigiarsi nei numeri quindi probabilmente nei prossimi anni saranno sempre più donne a coprire questa percentuale del 30 io credo che anche in Italia verosimilmente siamo a 70-30 ok la tematica è abbracciata da gruppi femministi cioè avete dei contatti con il mondo femminista interessato a questo tipo di battaglia oppure no allora questo io ultimamente mi sto un po' scontrando con i movimenti femministi ok perché credo e ho capito col tempo studiando gli chikomori che ci sia tutta una retorica sociale che in qualche modo non valorizza e non mette sullo stesso piatto anche i problemi degli uomini e sembra che appunto la società abbia solo problemi femminili che non significa che non esistano ma significa che a livello mediatico l'uomo fa più fatica a portare a emergere i propri problemi e quindi c'è un po' la sensazione che l'uomo non li abbia cioè che l'uomo sia sempre il maschio privilegiato e quindi è in una condizione privilegiata e attenzione questo aumenta la pressione perché se tu sei un maschio bianco terosessuale che ha tutto diciamo per spaccare non sei una minoranza se fallisci è colpa tua ancora di più in più l'uomo per ruolo di genere tende meno a portare a galle i propri problemi proprio per questa anche repressività delle emozioni per questo suo ruolo anche di persona forte sicura di sé e questo fa sì che tutte le problematiche legate al ruolo di genere maschile facciano fatica a emergere a livello di dibattito mediatico e per cui gli uomini non riconoscono neanche di averle mentre quelle femminini siccome le donne le portano con maggiore forza assumono anche a livello mediatico un maggiore dibattito e le donne sono più consapevoli di questi loro limiti difficoltà legate al ruolo di genere sociale questo crea appunto una categoria quella degli uomini che in parte è meno tutelata secondo me dal punto di vista del dibattito pubblico questa è la mia opinione personale so che alcuni non saranno contenti ma non è lo voglio precisare una critica nei confronti delle donne o degli uomini per me l'obiettivo non è fare come si sta facendo adesso apro il tema femminista se ti interessa ma dimmelo se non ti interessa non è pompare il ruolo della donna perché quello che sta facendo adesso un po' a livello di retorca non dico femminista non voglio dare etichette però a livello mediatico è la donna è stata svantaggiata cosa facciamo per recuperare pompiamo la donna cioè la donna è più brava dell'uomo avevo letto delle dichiarazioni di Obama che ho commentato in un mio video che diceva le donne dovrebbero governare il mondo se le donne governassero il mondo il mondo sarebbe un posto migliore cioè cosa si sta tentando di fare si sta tentando di pompare il ruolo però il problema è che questo pompaggio del ruolo della donna non elimina il sessismo perché il sessismo cos'è? è la discriminazione di una persona sulla base del sesso significa che io ti attribuisco delle qualità solo perché tu sei uomo-donna così come se tu sei nero-bianco così come se tu sei non so laureato o non laureato è classismo se io cerco di superare il sessismo attraverso il pompaggio del ruolo femminile non sto superando il sessismo sto semplicemente discriminando qualcun altro nel tentativo di alimentare una nuova disparità io spero che la società vada in una direzione dove sei uomo-donna cerco che questa variabile non implichi nulla per me cerco di abbassarla il meno possibile poi ci sarà sempre un pregiudizio quindi un giudizio a priori ma l'obiettivo secondo me di tutti dovrebbe essere quello di dire no la donna è migliore o l'uomo è peggiore la donna è migliore in alcuni campi la donna ha delle caratteristiche migliori eccetera ma è uomo-donna dimostrami e qua ritorniamo alla meritocrazia quindi è un tema un po' che si chiude dimostrami per che cosa io ti dovrei giudicare non per il tuo sesso ripeto questa cosa purtroppo è una dinamica sessista inconsapevole un po' latente nella società non bersagliata dal pensiero critico cioè io leggo l'articolo dove Obama dice le donne dovrebbero governare il mondo non dico come Amadeus fa un passo indietro o mio Dio cosa sta dicendo una roba super sessista dico ma ci sta le donne dovrebbero governare il mondo è pieno di politici uomini perché le donne non dovrebbero essere al loro potere ed è giusto ma il problema è che quella retorica non è una retorica del tipo donne e uomini dovrebbero avere le medesime opportunità di arrivare a governare i paesi è una retorica del tipo le donne sono migliori degli uomini e quindi dovrebbero prendere i posti di potere questa retorica però qual è il problema è che non viene condivisa cioè che non viene bersagliata dal pensiero critico è una cosa del tipo ok condivido l'articolo perché perché è super super interessante per esempio nessuno ha parlato di queste parole di Obama cioè sono passate completamente sotto traccia perché perché se avesse detto la stessa cosa a livello inverso sarebbe esploso il finimondo certo io credo che questa dinamica sociale sia in parte ricollegabile al fenomeno di Kikomori e credo che il ruolo del maschio inteso come ruolo di genere sia in parte in pericolo proprio per questo motivo proprio perché non si riconosce che si sta generando inconsapevolmente un clima sociale per cui i problemi legati al ruolo maschile non emergano ok ti ho fatto questa domanda perché condivido l'analisi nel senso che la prima cosa che mi è venuta in mente mentre parlavi dei ruoli di genere eccetera dieci minuti fa o quanto era è che nella mia testa magari è completamente sbagliata questa cosa mi sembra che le donne in generale abbiano una rete di protezione sociale un po' diversa nel senso che è è è meno accettato per qualche ragione che l'uomo fallisca mentre per la donna non è così e come dicevi tu c'è più una consapevolezza e più un lavoro che è stato fatto per altre ragioni che però poi finisce far da rete anche per questioni di questo tipo esatto esatto c'è stato un motivo storico adesso probabilmente bisogna riportare anche l'attenzione sul fatto che appunto tante problematiche maschili sono legate al ruolo di genere ci sono diversi studi che testimoniano come il ruolo di genere maschile sia molto più pesante di quello femminile perché il maschio deve costantemente confermare di essere maschio cioè se tu sei una donna è molto più facile che tu venga percepita come donna per le tue sembianze biologiche il maschio viene percepito maschio se mantiene un certo grado di virilità questo è un peso perché vuol dire che tu se non riesci a mantenere quel grado di virilità che ti determina maschio a livello sociale sentirai la pressione a dover cambiare il tuo comportamento a doverti mostrare più virile più macio più appunto sicuro di te magari sei una persona timida anche questa dinamica per esempio relazionale per cui l'uomo tende a fare più il primo passo che ci provi che debba essere il predatore è una pressione per chi è più fragile ovviamente perché non sarebbe portato a comportarsi in questo modo e oggi il maschio insicuro proprio a livello anche istintuale non piace non è attraente non lo dico da un punto di vista stereotipico lo dico da un punto di vista generale poi ci sarà credo che sia oggi comunque credo che sia e basta rimane molto anche oggi io cerco di smorzare perché non voglio essere particolarmente netto perché non si può generalizzare sempre a tutti i casi quando io dico queste cose magari qualcuno dice ma io non sono così sì certo ok è una dinamica sociale la dinamica sociale ti porta a essere percepito come meno attraente se sei più insicuro nella donna non c'è questa cosa cioè una donna più insicura più timida non è meno attraente anzi è quando al massimo devi dal suo ruolo di genere che è meno attraente la donna un po' meno attraente è quella più mascolina quella che appunto devia dalla femminilità però però è una dinamica sociale nel senso che è la donna che diventa indipendente quindi magari fa paura e quindi certo pensa che le donne che riescono di più nel mondo del lavoro sono quelle che riescono ad abbassare il loro livello di femminilità certo perché una donna più è femminile più è sessualizzata e più una persona è sessualizzata più è percepita come meno competente quindi significa che se una donna è sessualizzata la sua competenza passa in secondo piano questa è una dinamica per esempio che sfavorisce le donne in alcuni ambienti lavorativi a onore del vero che ci sono tanti problemi anche sulle donne perché poi ripeto quando faccio il discorso dell'attenzione ai problemi degli uomini poi c'è sempre qualcuno che interpreta questa cosa come eh ma allora le donne sì ma infatti questo per me è un grande problema io questa cosa ho deciso fondamentalmente di non parlarne quasi mai perché ogni volta che provo a portare la questione sul tavolo quello è il fenomeno che emerge io sto insistendo invece in quest'ultimo periodo l'ho preso un po' a cuore perché mi dà fastidio proprio l'ipocrisia che ci hai detto questo tema però capisco che allontani quindi anche no non è una questione che allontani è una questione allora il punto è che sai perché credo che succeda quello che tu dici cioè pompare l'hai definito tu perché quando c'è un sistema di comunicazione bisogna far arrivare dei messaggi questi messaggi se sono troppo complicati non arrivano io ormai questa cosa l'ho imparata analizzando la politica per anni quando tu fai tutto un discorso arzigogolato che poi quello che io faccio eccetera non passa mai niente certo deve arrivare un messaggio forte il messaggio forte è normalmente aiutiamo le donne il femminicidio 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 è la dinamica virale per eccellenza perfetto lì il messaggio può attechire certo quando invece il discorso è sì però non non sbilanciamoci dall'altra parte non passa infatti femminicidio uomo fa del male fisico a una donna lineare chiaro condivisibile immediato d'impatto social io infatti ho fatto un video appunto sulle dinamiche che portano questa divisione di divisione e la viralità è una di queste cioè sui social le tematiche tipo il femminicidio non perché non siano importanti ovviamente lo sono ma hanno un potere virale per il loro contenuto semplice immediato enorme se tu vuoi fare un discorso più complesso come questo il livello di condivisione è molto più basso perché devi cercare di fare uno sforzo un po' più razionale devi cercare di mettere da parte le tue opinioni devi cercare di andare un po' oltre il senso comune ecco il problema secondo me è questo che questa condizione della donna superiore all'uomo da un punto di vista di pompaggio sta entrando nel senso comune nel momento in cui entra nel senso comune e quindi è accettata abbassa il pensiero critico se qualcosa entra nel senso comune tu non lo metti più a livello critico se non hai un alto pensiero critico e quindi lo dai per assodato lo dai come un assunto ma io credo che ci sia molta ipocrisia dietro all'accettato nel senso che credo che molte persone dicano questa cosa ma non la pensino la maggior parte delle persone è politicamente corretto non puoi non dirlo perché sennò non puoi non dirlo certo io non lo dico mai perché io non lo credo che una donna sia meglio un uomo sembia di una donna in base al suo genere cioè una stranzata il problema è che non lo puoi dire nel senso non puoi dire queste cose addirittura ci sono persone che mi scrivono adesso che sto trattando questo tema Marco ma come sei coraggioso metti in pericolo la tua professionalità per questa cosa ragazzi ma non sto dicendo la donna l'uomo è superiore sto dicendo che uomo e donna sono fondamentalmente uguali tant'è che ci sono degli studi che dimostrano come la differenza intergruppo cioè tra donne sia mediamente superiore della differenza tra gruppi cioè tra uomini e donne significa che una donna differisce molto più mediamente dalle altre donne che tra donne e uomini questo dimostra come molte delle nostre credenze sulla differenza dei sessi siano in base all'educazione l'educazione fin da piccoli ci impone certi meccanismi ruoli di genere quindi anche che la donna sia più emotiva l'uomo è meno emotivo sono tutte cose che a livello biologico hanno poca spiegazione hanno sì l'aspetto ormonale però sono tutte spiegazioni deboli quello che determina la differenza dei ruoli di genere per cui io passo per stata vedo una donna la riconosco vedo un uomo lo riconosco è l'educazione è il fatto che tu cresci con dei modelli educativi e che segui quei modelli il mio obiettivo con questo discorso è cercare di dire attenzione che quello non è il sesso biologico è il ruolo di genere dobbiamo cercare di andare oltre e invece no secondo me la ritorca di questo periodo è proprio la ritorca del e con pagine che non so se posso citare ne dico una su tutte Frida una pagina che sfrutta il femminismo non so se la conosci l'hai mai sentita? sì veramente è una pagina che ha preso il tema del femminismo l'ha usata per cavalcare una marea di follower pensa che tre volte il follower è del Corriere della Sera oh wow è mensa e cosa fa? sfrutta queste dinamiche femministe per poi vendere dei prodotti ovviamente quindi cosa fa? rafforza il ruolo di genere femminile crea la categoria donna attraverso i colori rosa le immagini quindi prima rafforza il ruolo di genere e poi lo sfrutta a livello marketing invece quello che dovrebbe essere il nostro obiettivo come società è cercare di appiattire i ruoli di genere nel senso che non devono diventare una discriminante a livello sociale tu sei donna o uomo dovresti avere le stesse opportunità perché hai le stesse competenze di base poi devi dimostrarmi tutto ovviamente questo dovrebbe essere il nostro obiettivo invece la dinamica retorica moderna è alimentare il sessismo in senso inverso cioè attraverso il la donna ha queste qualità che l'uomo non ha quindi diamogli queste possibilità che non gli sono state date in passato è anche un senso un po' di vendetta secondo me dell'uomo ha costretto la donna in una situazione di inferiorità in passato e quindi adesso dobbiamo secondo me un po' questa retorica o comunque motivazione sottostante di vendetta io la vedo poi non so cosa ne pensi tu ok sì penso che sia possibile ora volevo chiederti un'ultima cosa adesso che hai distrutto la tua la tua sì sì ma io l'ho già distrutta ma adesso finalmente l'ho distrutta dove mi vedono perché io ho un canale youtube piccolissimo da qualche decina di migliaia di follower dove tratto questi temi però qua che mi hai dato questo palcoscenico poter dire queste cose sicuramente arriveranno a più persone distruggerò la mia carriera volevo chiederti in chiusura così se vuoi puoi anche parlare delle tue attività nel senso sì se all'ascolto in questo momento ci fosse una famiglia o un Ikikomori uomo o donna che sia che vogliono chiederti aiuto cosa devono fare e come devono fare allora io sono su tutti i social e cosa fare a prescindere allora sicuramente chiedere aiuto incominciare a contattarci la mail è info kikikomoritaglia.it possono farlo tramite il sito facebook instagram sono un po' ovunque e lì iniziare un percorso di consapevolezza del problema che non è appunto il mi dia uno psicologo ma è il prima capisco io e poi cerco di capire come posso essere io un elemento positivo per i figli perché quello che diciamo sempre è dobbiamo aprire la prima porta ci sono due porte per far uscire un Ikikomori la prima è quella della stanza la seconda è quella della casa se io non riesco a aprire la prima porta quella della stanza cioè se il figlio non riesce ad avere un rapporto con i genitori come posso sperare che questo mi apra la seconda come fa a fare questo salto almeno deve riuscire a vivere bene all'interno della casa poi io posso provare a fargli fare il salto successivo quindi la prima porta è fondamentale quindi questa era la prima domanda la seconda era? no era solo questa come mi può contattare sì sì ah poi mi dicevi che mi lasciavi uno spazio per uno spazio per no dicevi mi volevi lasciare nel senso se volevi dire in realtà l'hai già detto ti contattano principalmente su facebook tramite il tuo sito Ikikomori Italia facebook mail io ricevo decine almeno 5 6 adesso coronavirus oh l'ho detto vabbè lo puoi tagliare un po' meno ma decine nell'ordine decine al giorno ne ricevi? ne ricevo decine di contatti al giorno però in tutta Italia quindi vengono smistati nei vari ruppi sì sono tantissimi io credo che ripeto ci sia un sommerso di questo problema enorme perché quando se ne parla se ne parla male se tu senti parlare di Ikikomori sui media bene o male se ne parla male la prima domanda che abbiamo fatto in tv è stata ma gli Ikikomori sono gli emo questa è stata la prima il primo impatto quindi vuol dire che c'è proprio una disinformazione totale e tu riesci a raggiungere ho mentito quando era l'ultima ho detto che era l'ultima domanda riesci anche a raggiungere il ministero della salute? io sono a MIUR sono in un tavolo del MIUR per creare delle linee guida per le scuole da appunto diffondere in tutta Italia e dire sostanzialmente una cosa siate flessibili perché questi ragazzi non devono essere abbandonati però da qui a cambiare le leggi la scuola ce ne passa anzi credo che sia un processo lunghissimo solo il pensa che non si può neanche fare un censimento perché per tutti i temi di privacy tu non puoi proporre a un ragazzo o a un insegnante di parlare di sé o dei ragazzi cioè è assurdo non puoi fare niente e quindi è tutto bloccato non possiamo nemmeno sapere quanti sono gli riccomori in Italia però sì io sono in contatto con diversi esponenti del governo del MIUR qualche politico ha incominciato a contattarmi dicendo io posso aiutarti sono in contatto con tante scuole con tanti professionisti ovviamente questo lavoro mi permette di entrare un po' più nelle dinamiche abbiamo fatto un protocollo in Piemonte con l'USR l'ufficio scolastico regionale dove appunto diamo delle linee guida che vogliamo adesso estendere a livello nazionale quindi stiamo facendo tanto soprattutto stiamo facendo tanti eventi in tutta Italia facciamo seminari quindi se qualcuno vuole venire a vedere un seminario da vivo so che i ragazzi di solito i più giovani non amano i seminari di solito vedo solo over 40 allora se qualcuno avesse piacere ci sono i seminari quindi abbiamo tante attività stiamo cercando di crescere di fatto il Chico Moritaglia io voglio dirlo è un movimento è un movimento che è partito da un blog ma adesso si è espanso perché poi in questo momento che io sono qua la cosa bella è che sta andando avanti cioè ci sono genitori che stanno lavorando che stanno sensibilizzando che stanno creando eventi ci sono psicologi che stanno facendo gruppi quindi diciamo che è partito il movimento è partito il movimento di sensibilizzazione stiamo lavorando anche per creare dei servizi aggiuntivi come l'adulto amico cioè mandare a casa un educatore di una persona in modo che l'educatore è percepito anche come meno medico è lo psicologo oh mio dio il psicologo mi vuole curare sono malato c'è tanto stigma sugli psicologi ancora di più sugli psichiatri l'educatore è più una figura vissuta come ibrida anche se ovviamente è una figura professionale di tutto rispetto al pari di tutte le altre che ho citato questa figura per me è fondamentale per aprire un po' diciamo la chiave per entrare nella casa incominciare a instaurare una relazione e poi eventualmente convincerlo a uscire andare da altre figure quindi stiamo facendo tante cose stiamo facendo tante cose diverse un po' confusa a volte perché il problema è impellente noi siamo nati da poco ma stiamo cercando ovviamente di crescere in fretta perché non c'è tanto tempo più aspetti più le persone si isolano e più si isolano più peggiorano peggiorano ok grazie per il vostro lavoro grazie per la chiacchierata veramente interessante grazie anche a te chiudo dicendo che sono veramente felice di essere qua e sono veramente felice di avere la tazza che la terrò come uno scettro un premio perché hai detto che non la vendi giusto no no non la vendo mi raccomando questo la terrò come un mio achievement di essere riuscito ad arrivare sono sincero io sono veramente contento della chiamata e del fatto che tu abbia deciso di chiamarmi per me era un obiettivo riuscire ad arrivare qua non sto scherzando perché lo ritengo e lo chiudo con una leccata di culo tra virgolette ma tanto ormai sono qua credo che il tuo progetto sia uno dei più interessanti in assoluto per un semplice motivo che tu puoi essere un esempio alternativo non positivo o negativo perché la positivo o negativo è non ti piace è molto opzionale è molto personale però secondo me tu puoi essere un esempio alternativo per tantissimi ragazzi tra l'altro credo che la tua community sia una delle più affezionate in assoluto io ti invidio perché le persone veramente ti vogliono bene come fossi il loro fratello maggiore questa cosa la sento perché tutti mi dicevano vai da shy vai da shy e questa cosa si vede quindi complimenti per il tuo progetto hai detto che sei un po' in burnout ultimamente sì moltissimo però veramente tieni duro perché secondo me è utilissimo al di là dell'informazione che fai secondo me proprio come la fai il fatto che sia un'informazione equilibrata che dia spazio anche temi che nel mainstream non passino quindi vabbè è un incorreggiamento che ti voglio dare in diretta nazionale e poi voglio strapparti una promessa se passerai di nuovo da Milano non andrai solo da Montemagno ma magari vieni e mi passi a trovare e ti faccio io qualche domanda perché poi a me piace volentieri se non sarete già in zona rossa intendo se non saremo tutti morti sicuramente ma in futuro quando ripasserai promettimi che mi mi passerei a trovare perché voglio farti un po' di domande sì mi piacerebbe sai chiudiamo così la stiamo tirando tantissimo sai perché tutto quello che hai detto secondo me succede ed è la ragione per la quale io ti ho portato qua te l'ho già detto prima ma te lo ridico è che l'argomento e lo trovo interessante perché fondamentalmente si parla di vulnerabilità alla fine l'essere di Kikomori è doverne parlare e tirar fuori una vulnerabilità è quello che io faccio sempre fondamentalmente io tiro fuori tutte le vulnerabilità che mi hanno sì esatto e quindi penso che sia importante importante infatti il tuo video sulla depressione credo sia stato importante perché dobbiamo imparare a usare i social non solo in termini positivi lo dobbiamo fare per tutti dobbiamo imparare a usare i social anche per dire le nostre debolezze perché sennò continuiamo a creare un'immagine mitizzata di noi stessi e questo danneggia gli altri oggi c'è un po' il mantra del fai quello che vuoi basta che non danneggi gli altri questo è il mantra che ripetono un po' tutti ma non è così chiaro cosa danneggia gli altri cosa no molti nostri comportamenti potrebbero avere dei riflessi indiretti sugli altri questo non significa che non bisogna più postare foto sui social di te con la ragazza non significa questo significa semplicemente che essere un po' più consapevoli essere un po' più sinceri sinceri dire il fatto che tu sei al mare con la ragazza eccetera ma dire anche che se hai sofferto di depressione come è stato per me come è stato per te se sei una persona ansiosa come per esempio sono io dirlo semplicemente ci rende più umani anche sui social questo è il mio appello vorrei che i social diventassero un po' più umani non quella vetrina idilliaca e assolutamente irrealistica che poi genera tutta quest'ansia da prestazione quest'ansia di realizzazione impossibile da reggere fantastica che è carata grazie mille grazie mille a te fatta posso l'abbiamo fatto